Ho appena scoperto una cosa, e cioè che c'è già... Mi sono andato a guardare nella lista della gente in chat. C'è già qualcuno sintonizzato su questo canale prima dell'inizio della live. Tra cui, per esempio, Exploding Kit in 87 e Tolusezio. Abbiamo l'Eco, che lo togliamo. Ma anche 0.1 Ella, Another TV Viewer, Business Debdy, Commander Root, Dropsnet, Capta, Mubot. Mubot, nome un po' da intelligenza artificiale. E anche Dan Stilo, è arrivato adesso però invece Dan Stilo. Caraibi, Dan Stilo, Caraibi, Exploding Kit in 87. Caraibi, ragazzi. Allora, dobbiamo svoltare, dice Dan Stilo. Che dobbiamo fare, Dan Stilo? Cioè, è tipo un'indicazione da navigatore? O qualcosa di importante proprio nella vita? Verso quest'ora tengo una scheda aperta sul canale per evitare di perdermi l'inizio, dice Exploding Kit. Bella sta cosa, soprattutto l'idea di non volersi perdere l'inizio della live. Mi piace un sacco, visto che cominciamo ovviamente subito, ultimamente. Caraibi, The Mix, Caraibi, Gaetano Menna Jack. Anch'io, dice Gaetano Menna Jack. Neanche lui vuole perdersi l'inizio. Molto bene. Caraibi, Tolusezio, Caraibi. Allora, ragazzi, stavo cercando un elenco, diciamo un po' editato, di giochi in uscita da qui alla fine del 2023. O comunque nei prossimi mesi, se vogliamo metterci anche un po' all'inizio del 2024. Però è difficile trovare qualcosa del genere. Trovo una selezione di giochi fatta da PlayStation solo per PS5. Oppure trovo un elenco infinito di giochi con dentro di tutto. Oppure altre selezioni. Insomma, vorrei una roba un pizzico più ordinata. Se avete qualcosa sotto mano, passate. Però voglio che ce lo guardiamo insieme. Caraibi, Uovo Fritto, Lord Krul 79, Passerotto 75. Ciao Walo, sto contattando l'assistenza Xbox. Faccio la domanda di Rito? Fisico o digitale? Assolutamente sì, Passerotto. Certo, glielo devi proprio chiedere. Ma nel mezzo di una discussione sulla... Perché stai contattando l'assistenza? Ci sarà un motivo, no? Tipo, non funziona il controller. E loro ti chiedono, ma che tipo di problema ha? E tu dici... No, prima volevo chiederla io una cosa. Fisico o digitale? È così, in questo tipo di dialogo. Dan Stilo dice, Sei un passo davanti a tutti, ma non stiamo raccogliendo ciò che meriti partendo dalla community che, come sappiamo, è inferiore a quella di Farenz. Dobbiamo svoltare Dan Stilo, dobbiamo assolutamente svoltare. Ma io sono convinto che lo faremo. Però se tu vuoi una svolta un po' più decisa e anche più immediata, pensiamoci. Fammi sapere che cosa ti viene in mente. Facciamolo. Exploding Kitten. Per fare il salto definitivo, questo canale avrebbe proprio bisogno di un po' di Vito Yuvara in più, dice Exploding Kitten. E su questo non possiamo che essere tutti d'accordo. Jenny Flipper, Caraibi, Caraibi, Arius80, buongiorno laggato anche a LordaveTheKind. L'estate è solo una forma di lag dell'anima? Caraibi a tutti, abbonati e non da parte di LordaveTheKind. Il lag dell'anima, sicuramente. Secondo me sì, perché sono due cose belle oltretutto. Sia l'estate sia il lag dell'anima. Ma comunque l'estate, come è in questi giorni, ieri e oggi, è fantastica. Temperature calde, ma non eccessive. Mamma mia, una roba meravigliosa. Si sta benissimo, non si suda, si dorme meravigliosamente, si esce, si può camminare senza sudare. Veramente bello. Certo, magari sarebbe preferibile arrivare a queste temperature senza i temporali in mezzo a temperature invece molto più alte. Sarebbe meglio... Però, insomma, non si può avere tutto. Walo, dice The Mix, stavo pensando che io provo per Spider-Man lo stesso tipo di odio che tu provi per Armored Core. Non fregandomene nulla del personaggio, e anzi, essendo stufo di cinecomic and co, preferirei troppo che Insomniac dedicasse invece quel tempo a creare più Ratchet & Clank o qualche IP nuova, date le capacità creative e tecniche dello studio. Io capisco perfettamente. C'è da dire che Insomniac fa comunque già un sacco di roba. Tra l'altro c'era un rumor in questi giorni che ci raccontava che probabilmente oltre a Spider-Man 2, che sta per uscire, e oltre a Wolverine già in lavorazione, Insomniac è al lavoro anche su un'altra roba. Quindi, veramente, magari, insomma, si riesce ad avere un po' tutti tutto da Insomniac, però capisco se uno non ha proprio nessun interesse per un qualcosa, è un peccato. C'è da dire, se vogliamo continuare con il confronto sulla questione Armored Core, c'è da dire che negli ultimi anni From Software ha fatto fondamentalmente i Souls-like e Sekiro. Cioè ha fatto Demon's Souls, tre episodi di Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e Elden Ring. Quindi, diciamo, a un certo punto tu dici, ma perché adesso vi mettete a fare quest'altra roba che non c'entra niente? Invece Insomniac ha comunque fatto un po' di tutto, ma... Però sì, capisco che il tipo di parallelo... Cioè voglio sottolineare, non per lamentarmi di più, ma poi non è vero che io mi lamento, non fa niente che esca anche Armored Core. Però nella sfida delle lamentele, che non ci interessa, però è bello dire... Cioè io da From Software avevo fondamentalmente quello che volevo e poi all'improvviso no. Tu dici, vabbè, a questo punto lamentati addirittura di meno, visto che comunque... Sì, ci può stare anche questo, oltretutto è anche già annunciato il DLC di Elden Ring. Si vorrebbe una data d'uscita anche per quello, eh? Comunque, comunque, comprendo. Lozenna Caraibi, Dan Stilo. Vedo i numeri di altri canali e mi chiedo come mai dobbiamo svoltare, anche se a noi i numeri non interessano. No, no, ma è giusto svoltare, Dan Stilo, eh? È giusto svoltare, anzi... Sai qual è il rischio, Dan Stilo? Una buttinata. Parliamo un po' di questa cosa qua. È che in questi tre anni di canale Twitch, fondamentalmente il motivo per cui sono riuscito a non dover cercare, trovare un altro lavoro impegnativo e serio e quindi poter continuare a fare queste live, dedicarmi a giocare, leggere di videogiochi, chiacchierare di videogiochi, fare ogni tanto i podcast, qualche volta i video su YouTube, eccetera, è perché ci sono stati i lavori con Beyond PG prima, con PlayStation poi, però il solo canale Twitch non mi avrebbe permesso in questi tre anni di sopravvivere. Quindi la svolta, Dan Stilo, ci può volere, perché se a un certo punto i lavori con le aziende esterne, diciamo così, diminuiscono o finiscono, ci sono periodi in cui sono troppo altalenanti e quindi non ti ci puoi affidare, a un certo punto è possibile che ci si debba dedicare alla ricerca di un lavoro più normale, quindi probabilmente anche al rischio dell'abbandono di questa roba qua, potrebbero diventare delle live serali un po' più a tempo perso, però insomma non lo so, quindi Dan Stilo, la svolta è necessaria sicuramente. Per adesso non è pressante questa cosa, però insomma a un certo punto che abbandono, calma, dice Dan Stilo. No, no, non è assolutamente neanche all'orizzonte questa cosa. Maulins 83, Caraibi. Non ha tutti i torti The Mix, dice Passerotto, troppo vincolati ai Marvel. E ne hanno fatto, cioè nel 2018 Spider-Man, nel 2020 Miles Morales, nel 2023 Spider-Man 2 Wolverine in arrivo, quindi sì, cioè i giochi Marvel hanno un po' preso il sopravvento nelle priorità di Insomniac, che però, non ce lo dimentichiamo, in mezzo sono riusciti comunque a ficcarci Ratchet & Clank Rift Apart. Sono veramente molto molto prolifici i ragazzi di Insomniac, sono in grado di fare più robe, di farle bene comunque, perché poi alla fine sono prodotti confezionati in modo egregio sempre. Cominciamo? Dai, sigla! Caraibi gente, bentornate e bentornati sul canale Twitch di Walone. Un saluto sempre a KJ Presidio e alla redazione di Kaiba Station, detta Kaiba Station. Un saluto a tutti voi. Dunque, Caraibi, Skyfly 83, Arius 80, dice questa news farà schizzare l'interesse di Walone per Armored Core. Sì, no, no, ho capito qual è la news, no, perché non ci credo a questa roba qua. La news sarebbe Armored Core 6 ha ereditato i combattimenti aggressivi di Sekiro, dice From Software. Questa è la classica cosa tipo che in un'intervista qualcuno ha parlato del fatto, ma come spirito, come cosa, ci piaceva il combattimento aggressivo di Sekiro. Cercheremo di portare un po' di quel senso di dinamica, di dinamicità anche in Armored Core. E poi si fa la news. Ma che poi, cioè, l'impostazione aggressiva dei combattimenti, io non la ritengo neanche una roba che tu puoi prendere come caratteristica di Sekiro, l'impostazione aggressiva. Non so, cioè, Sekiro è anche un... il combattimento di Sekiro è anche molto... cerca di parare perfettamente tutti gli attacchi dell'avversario. Non è necessariamente aggressiva come roba, no? Cioè, già in questo c'è qualcosa che non va. Però, sentiamo, Stando alle parole del game director Masaru Yanmamura, Armored Core 6 Fires of Rubicon ha ereditato l'impostazione aggressiva dei combattimenti vista in Sekiro Shadow Die Twice, di cui, tra l'altro, è stato il main combat designer. Qua segnalo un errore. Non si scrive di cui ne è stato. Si scrive di cui è stato, perché questo ne e questo di cui sono la stessa cosa. Lo segnalo in generale anche a tutti. È una cosa che si fa spesso, no? Ho visto questo film di cui me ne è piaciuta la colonna sonora. No, di cui mi è piaciuta la colonna sonora. Oppure, ho visto questo film me ne è piaciuta la colonna sonora. Solo una o l'altra cosa. Non tutte e due insieme. Armored Core 6 arriverà... Ma è finito. Ah no, ecco qua. Ci sono alcuni aspetti con cui si possono fare paragoni indiretti, non solo con Sekiro, ma anche con i titoli precedenti. Eh, quali? Sono questi elementi di andare in battaglia e dover osservare... Questo è un po' invece alla vita UR. Sono questi elementi di andare in battaglia, gli elementi di andare in battaglia. Un po' come i giochi di lavorare. E' dover osservare i nemici. Osservare i loro schemi e rispondere di conseguenza. Ok. Usare l'ingegno per superare queste situazioni difficili. In particolare, un elemento che deriva indirettamente da Sekiro è questa impostazione di combattimento più dinamica e aggressiva. è un aspetto che abbiamo voluto incorporare anche in Armored Core questa volta. Ma, ragazzi, non significa proprio niente tutta questa roba. Niente. Non significa niente. Non sai dove mettere le mani per cercare di ricavarci qualcosa di sensato. Ma già nell'intervista originale, probabilmente. Comunque, va bene. Va bene, va bene. No, magari avrete un bel sistema di combattimento, il gioco. Anzi, ce lo auguriamo, assolutamente. MV 93 Mamma mia, stamattina a Fano, Marche, si stava da Dio 18-20 gradi e passeggiata mattutina a lungo mare e dopo l'alba pasta alla crema e cappuccio. Potevo anche morirgli. Bello che pasta alla crema, pasta sarebbe tipo il dolce, no? La pasta nel senso di brioche e o cornetto. Pasta. Bello. Perché pasta alla pastarella, dice scatole cinesi. Io oggi ho iniziato Returnal per ora tutto ok, dice Jenny Flipper. Benissimo. Fantastico. Speriamo che continui a essere sempre tutto ok. Jenny Flipper, il gioco è fantastico. Returnal, gioco clamoroso. Veramente clamoroso. Ieri ho finito Jedi Survivor, dice Lord of the Kind. Senza fare spoiler, il finale è stato un po' anticlimatico, ma credo che serva a preannunciare un ulteriore sequel. Ma la storia resta la caratteristica più bella del gioco, oltre al level design molto ben articolato alla Souls. Le meccaniche di gioco hanno qualche difetto qui e lì dovuti al fatto che tante azioni in combattimento non sono al 100% libere e hanno dei tempi di aggancio che non sono piacevoli da vedere. La resa tecnica non è brutta, è imbarazzante. Voto 7, underscore, zero. Questa è la recensione di Lord of the Kind. Ringraziamo per la recensione di Jedi Survivor. Mi aspettavo qualcosa in più, Lord of the Kind, da come ne parlavi nei giorni scorsi mentre ci giocavi. mentre Just Things dalla regia ci fa vedere un questo magari ce lo guardiamo un attimo insieme, un una extended gameplay overview di Lords of the Fallen in arrivo a settembre, mi pare, a proposito del fatto che cercavo una lista di giochi ma voglio aggiustare un po', ecco, la telecamera così, forse un po' di meno. Eh, calma, va bene così. Cercavo appunto una lista di giochi in uscita, Lords of the Fallen mi pare, arrivi a settembre. Comunque, guardiamoci insieme questo video, facciamolo in cuffia, va? Così non c'è lo sdoppiamento dell'audio che è tanto fastidioso. Allora, auricolari, me li è in seppo nelle decchie, e devo vedere qua, devo cambiare qua, ecco qua, vediamo, così, però ce lo guardiamo bene. Benvenuti a Mornstead, una regione prominente dentro del vasto e sprawling mondo di Lords of the Fallen. Nel oggi's extended gameplay walkthrough, ci stiamo partendo un esclusivo a solo alcune delle diverse e arricchiali le zone che avvicinare nella tua epic quest per salvare un dèr, il DEMON Allora, la grafica è bella, eh? La grafica sembra molto bella nel mix tra realizzazione tecnica e, devo dire, anche gusto artistico. Vediamo, vediamo un po'. This is Skyrest Bridge. Sapete che anche solo già nell'animazione del prendere la spada dalle spalle che ha fatto questo personaggio ci ho visto più vicinanza ai Souls di From Software di quanta non ne avesse il primo Lords of the Fallen del 2014 che invece era un po' più impastrocchiato nelle sue animazioni anche un po' nella sua grafica. Leon Sander nel frattempo rinnova l'abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di due mesi. Grazie, Leon Sander, grazie per la conferma al supporto al canale, grazie, un abbraccio digitale. Non mi ricordo di Leon Sander come Nick e non mi ricordo se abbiamo già fatto questa cosa quando c'è stato il primo abbonamento di Leon Sander quindi te lo chiedo adesso Leon Sander se ti va di presentarti di spiegarci come mai hai deciso di supportare il canale intanto grazie ah e grazie anche a CoinHopMan che prima dell'inizio della live aveva già rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 39 mesi. Grazie CoinHopMan un abbraccio digitale a te grazie per la super longevità nel supporto. Andiamo avanti. It is guarded by Pietta She of the Blessed Renewal one of the game's early boss encounters We must triumph against her in order to proceed with our holy charge to restore radiance to the six beacons of the sentinels and thwart at the years of rising Oh holy Aureus by your radiance grant me the strength to continue mi sembra un livello di produzione assai superiore a quello del primo Lords of the Fallen è tutta un'altra roba eh questa anche altra gente Un'altra roba ha fatto flesch e uno che non posso perdere Melea, magica e abilità sono inattentamente interroversi con gli attacchi puoi選ere tra catalixti bose crossbow o throwballs Aspetta, aspetta deve capire una cosa Con gli attacchi puoi選ere tra catalixti bose crossbow o throwballs mapping up to four additional magic or range skills to your controller for immediate access Allora, questa cosa sembra interessante cioè dice che tu puoi mappare sul controller quattro tra incantesimi colpi con la balestra o con altri tipi di armi a distanza oppure robe con armi da corpo a corpo per un accesso immediato probabilmente questo però vorrei capire proprio controller alla mano senza switchare arma come si fa nei souls normalmente no? che se tu hai la spada dai il colpo di spada se vuoi lanciare un incantesimo devi prima selezionare il catalizzatore il bastone la bacchetta eccetera e poi lanciare l'incantesimo invece sta roba qua come la spiega lui mi sembra che possa essere una roba un po' più cioè tipo se metti una magia premi il tasto di quella magia la fa subito non è che devi prima selezionare il catalizzatore e uno che non posso capire l'acqua l'acqua non è l'acqua 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 e l'acqua sono semplicemente intervoven con gli attacchi standard puoi con gli attacchi catali l'acqua l'acqua o l'acqua l'acqua metri 4 l'acqua 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 per l'acqua per access questo sembrerebbe questo e diminuisce Eh no infatti vedi, dice proprio quello, riduce la necessità di passare tra i vari fatti Ok, è da vedere com'è questa cosa una volta che lo giochi, il controller alla mano però sembra molto interessante Vabbè, questo boss ha due fasi, come diversi boss che si incontrerà La morte non è necessariamente l'ultimo in Lords of the Fallen Quando slain in Axiom, il realm of the living, risurrezzi in Umbral, il realm of the dead Ma quando mori nel reame dei vivi puoi resuscitare nel reame dei morti Allora io devo dire che questo finora l'ho abbastanza sottovalutato Non è che ho sottovalutato il gioco con cognizione di causa, ho sottovalutato la possibilità di interessarmene Però devo dire che Cioè c'è già l'Eyes of P che secondo me è candidato a essere il miglior Souls-like non di From Software Beh, questo magari potrebbe contendergli questa cosa, sarebbe molto figo come fatto Quando esce questo Lords of the Fallen? A settembre, anche questo? L'Eyes of P esce il 19 settembre, 17 settembre, 19 settembre Questo? Fine ottobre, dice Passerotto mi pare Dopo controlliamo? Comunque, oh Va aggiunto alle robe da giocare Va sto buono Le due mondi, sono proprio due mondi con nemici diversi, oggetti diversi dentro Quindi c'è anche sta cosa di gestire la propria esistenza tra questi due mondi Io lo vedo proprio molto meglio del suo predecessore A livello di animazioni, di senso proprio del Cioè questo è copiato meglio dai giochi From Software Ecco, questa è la sensazione Un po' come l'Eyes of P Perché fondamentalmente quello che è mancato in questi anni Ai Souls-like non di From Software È che non ce la facevano ad arrivare a quella roba l'acqua Adesso forse magari ci volevano degli anni, ci volevano un po' di tempo per Questa potrebbe essere l'epoca delle copie più mature A par poi mantengono le loro idee, sta roba di due mondi così è comunque un fatto Però intanto cominciamo ad avere Cioè quando noi giochiamo, che ne so, a un platform, no? Cioè non è che, probabilmente all'inizio io adesso non me lo ricordo tanto questo fatto Però magari all'inizio c'era Super Mario era fighissimo e gli altri erano molto peggio Però pian piano poi anche gli altri cominci a dire Ah, questo è un platform fatto bene Ecco, nel genere Souls-like questa roba Finora non è mai tanto successa A parte i due Neo, secondo me Che però proprio erano anche un po' diversi Ci sono stati un sacco di tentativi di fare quella roba Ma senza quel feeling qualitativo Magari adesso stiamo arrivando ad avvicinarci di più a quel feeling qualitativo Anche da parte delle software house che non sono From Software Sarebbe molto figa come cosa This mendacious visage, for example Is only vulnerable when attacked from the back Or when it reveals its true form You'll also come across permanent vestiges on your travels As well as using these to return to Axiom You can also level up your stats at these locations Three schools of sorcery can be mastered Rogar, Radiant and Umbral Each specialising in a different area of the arcane And requiring a different catalyst to cast Ci sono tre diverse scuole di magia Con diversi tipi di catalizzatori necessari per usarle Questo è un po' in stile Dark Souls Però con la roba che diceva prima Che poi fa avere delle scorciatoie Per alcune singole magie sul controller direttamente Auto sign Oh no Ok Ok Ma di questo non è uscito niente Una demo, una beta Una roba Per provarlo un po' Cioè sembra proprio figo Il gameplay sembra bello Snello Poi ripeto Sembra molto bello anche graficamente Cioè esteticamente Nel suo complesso Però Di questi giochi Per me è molto importante valutare Il level design e questo lo si può fare Solo giocandoci Cioè che tu mi fai vedere Ste ambientazioni Magari fighe, ok Però poi io devo capire Anche se le scorciatoie Sono sensate Se è leggibile Il level design E questa è una cosa che ovviamente Si può vedere solo giocando Questa porta si apre solo dall'altro lato Ma non lo sto dicendo qui Oppure forse è chiusa Una scritta in sovrimpressione Con la porta si apre solo dall'altro lato Sarebbe stata bella As a lamp bearer Tutti giocandoci Tutti giocandoci Sono equipati con una Devastante abilità Il soul flay Con l'utilizzo di uno Un numero limitato Di soldi di soldi Siamo capiti Di estrarre Il vero soul Di un enemigo Prima di infligare Significante damage Non si può estrarre L'anima dall'avversario Per danneggiare Direttamente l'anima E' sempre tutto Un po' Come si ama dire Derivativo A livello proprio di Immaginario estetico Che vediamo No qua stiamo Praticamente Nella Nel livello della palude Di demon souls Combattendo Contro I nemici Che danno le testate Come Quelli con Il cappello di tartaruga Di elden ring E Oppure sti cosi Che Escutano fuoco Questo è Nettamente Il livello Della palude Di demon souls Un po' Volendo Anche la città Infame Di dark souls NERRIÑO Dei morti Nel regno Umbral Si Si possono fare pure Ste robe Con Questa parte qua Te posso dire Che non mi piace Tantissimo Sta cosa Del regno Alternativo Un po' Brutto Oh Questo mi piace Invece L'interfaccia Mi ha quasi Emozionato Si perché poi Cioè Voglio dire Il menu Dell'equipaggiamento Degli oggetti Mi piacerebbe Vedere questa roba Anche con Appunto L'interfaccia Invece Su schermo We now find ourselves In Lor Calrath An ever burning district Renowned For its displays Of barbarity Unplugged 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 Oh questo è molto importante Il compagno della co-op Può rimanere con noi Fin tanto che ci va Se hanno superato quel limite Molto stupido secondo me Dei giochi anche from software Del fatto che una volta fatto il boss La co-op finisce E quindi al limite bisogna poi rifarla In un'altra zona Se invece qua si può giocare co-op per sempre Cioè tu scegli di evocare un compagno In uno dei punti dove lo puoi fare E poi Puoi giocarci per sempre Se è così è molto figo Magari Tipo Nioh dice Shepard91 Ma Nioh fa una cosa ancora diversa Nioh ha o la modalità tipo i Souls Che evochi ai santuari E poi L'aiuto Finisce quando Uno muore Oppure quando il boss è stato sconfitto Oppure c'è la modalità Spedizioni In cui si gioca direttamente Insieme Un'intera missione Poi si sta insieme nel menu Si seleziona un'altra missione Si gioca un'altra missione Quella roba là è fighissima Questo però non mi sembra un gioco a missioni Questo mi sembra avere un mondo intero Non open world Ma probabilmente Con una costruzione Tipo quella dei Souls Non Elden Ring E da quello che ho capito Qua evochi il compagno Che sia un amico O un giocatore Assegnato Dal matchmaking E poi ci giochi Finché volete Sarebbe molto bella sta cosa Sarebbe molto bella Sarebbe molto bella Sarebbe molto bella Sarebbe molto bella It appears Our way is blocked By an umbral entity We will need to track Its tendrils In order to locate And expel The source of its power Vabbè Finally it's time To face off Against the colossal Spurned progeny Scourge of Calrath No dai Se funziona bene Anche quella co-op Questo gioco Può essere veramente Gustoso Sarà crossplay Sarà crossplay Sarà crossplay I classici boss I classici boss Che tu Non combatti con i boss Ma con i piedi del boss The lands of Mournstead await you Preorder Lords of the fallen now And prepare to unleash the darkness On Friday the 13th of October Il 13th of October Va bene Dai Comunque Si mette in lista È bello Comunque Gamepages Dice Manforte Sì mi piacerebbe Nel Gamepages Ma purtroppo Non c'è Sarebbe bello Nel Gamepages Però Mi piace Mi è piaciuto Lo tengo Sicuramente Molto più in considerazione Non l'avevo proprio Messo in conto Lords of the Questo Lords of the fallen Finora Non finora Fino a un trailer Di qualche mese fa Perché già Aveva cominciato A risultarmi Un po' più Interessante Invece Adesso Devo dire Boh Mi sembra Non so Lo vorrei giocare Vorrei una demo Comunque Vorrei una demo Allora Jedi Survivor Per Lord of the kind Anch'io da Insomniac Avevo quello che volevo Prima che sono Gli Appio Pass E Spider Me ne dice The Mix 231 Che cosa ti piaceva The Mix di Insomniac Prima di Spider-Man Ratchet & Clank I vari Ratchet & Clank O anche Come si chiamava Quello uscito per Xbox Sunset Overdrive Oppure Fuse È un gioco È un gioco fatto da Insomniac Che non ho mai toccato Ma che non credo sia Abbia avuto Grande successo Che altro ha fatto Insomniac? Vabbè Anticamente Spyro the Dragon Che poi è Che poi è Tra virgolette Diventato Ratchet & Clank Ratchet & Clank Fondamentalmente Ratchet & Clank Che però Esiste ancora Secondo me Cioè Ha avuto il suo episodio Dai Secondo me Non ci si può Tanto lamentare Di Insomniac Voglio Voglio L'esclusiva Della lamentela Su From Software Per Armored Core Caffè Latte 1987 Caraibi Allora Adesso passare da Jedi Survivor A Ratchet & Clank Dice Lord Dave The Kind Devo dire che è stato Come passare Dalla notte al giorno In termini di resa grafica E il gioco è molto gradevole Nei suoi impianti E meccaniche Sì Molto meglio No Ratchet & Clank Anche se Anche se Digital Foundry Non era molto Soddisfatto Sembra essere Molto soddisfatto Dalla versione PC In queste prime In questi primi momenti Dall'uscita del gioco Come ci riporta Tommaso Pugliese Su A proposito Tommaso Pugliese Come aveva risposto Innanzitutto Mi ha aggiornato Sul numero Delle Recensioni Fa vedere Fammi riprendere Il messaggio Vi ricordate No che gli avevo scritto Per non mi ricordo cosa Per dire qualcosa Di Di una news Che aveva scritto Su 2417 2417 Recensioni E invece qual era il problema Delle news Non so perché sono messaggi audio Videomessaggi E messaggi audio Ah sì sì Era la questione di breccia Che aveva Il leak Il leak Presunto leak Della nuova versione Di nintendo switch Sì sì Adesso mi ricordo E poi abbiamo detto Poi ne parliamo magari anche In una live insieme Comunque 2417 Recensioni Adesso Passare Adagio di Survivor Dobbiamo Lavorarci Da ora Dice Dan Stilo Diamoci da fare Dan Stilo Assolutamente Ma stavo dicendo Ratchet & Clank Allora L'analisi Di Digital Foundry Per quanto Preliminare Fornisce Una risposta Sorprendente A questa domanda Cioè Gira meglio Su PC O PS5 Rift Apart Ci sono diversi Frangenti In cui la console Sony Si comporta Meglio Di una macchina Windows High End Non è finita qui Digital Foundry Risponde anche All'interrogativo Che tutti Si sono posti Fin dal momento Dell'annuncio Ma l'SSD Non era fondamentale Per far funzionare Il titolo di Insomniac Games In realtà Con un hard disk drive Da 7200 RPM Il gioco Gira lo stesso Pur con prestazioni Visibilmente inferiori Mentre Portarlo su PS4 Non sarebbe davvero Stato possibile Date un'occhiata Qui sotto Ecco Vediamo Ok Questo è il risultato Con un hard disk Paragonabile A quello Di PS4 Con un hard disk Meccanico Più veloce Di quello di PS4 Il gioco Può anche girare Con un hard disk Come quello di PS4 Questo è il risultato Il che non ci dice Che il gioco Non sarebbe stato possibile Su PS4 Perché Per lo stesso motivo E qua Per esempio Mi meraviglio Per lo stesso motivo Per cui Su PS5 Riesce a girare meglio Che su alcune configurazioni PC Allo stesso modo Se lo ottimizzavi Per PS4 Magari lo facevi E non ottenevi Questo fantastico risultato Che siamo fermi qui Ma a un certo punto Riuscirà a completare Questa transizione Tra Le dimensioni Si è bloccato così Ah Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Aspetta Ok Si ce l'ha fatta Vabbè Funziona Si tratta solo Di aspettare Un po' di più Quando vai nel rift Vabbè Secondo me Funziona Dai Cominciamo col dire Che per il momento Quella realizzata Da Alex Battaglia Non è che un'analisi Preliminare Viste le tempistiche Di consegna Dei codici Che non hanno consentito All'esperto Di Digital Foundry Di realizzare Un approfondimento Dettagliato E di spessore Come suo solito Quello arriverà Solo fra qualche giorno E noi qua stiamo Il video si pone Più che altro Come un confronto Fra la versione PS5 In modalità Prestazioni RT Sapete che il gioco Ha diverse modalità Tra cui scegliere Modalità Grafica Modalità Prestazioni E modalità Prestazioni RT Cioè prestazioni Però con Ray Tracing Attivato Quindi risoluzione Ancora più bassa Della modalità Prestazioni Per favorire Per favorire La fluidità Ma al contempo Non rinunciare A Ray Tracing Quindi in questo In questa modalità È stata provata Su PS5 È stato provato Il gioco Su PS5 Per questo confronto E poi due configurazioni Windows Una di fascia alta E una di fascia bassa Applicata a una serie Di scene Il porting Di per sé Appare solido Sembra garantire Ottime prestazioni E supporto a tutte Le tecnologie Di upscaling Ma a ben vedere Ci sono alcune cose Che non vanno Nello specifico Pur con le impostazioni Migliori La versione PC Di Ratchet & Clank Rift Apart Perde qualcosa Rispetto a quanto Visto su PS5 Alcuni effetti Di trasparenza Filtri Texture Che non funzionano Su determinati Superfici Problemi di caricamento Delle texture E con la resa Del Ray Tracing Assente Come sapete Sulle GPU AMD A lancio Vabbè ma comunque Questo è il solito Fatto di Del gioco Che poi tra due mesi Funzionerà molto meglio La tanto decantata Meccanica Dei portali Che caratterizza In maniera forte L'esperienza di gioco Funziona meglio Su PS5 Pur in presenza Di una componentistica PC di alto livello Il che fa pensare Che anche in questo caso La versione Windows Sia stata purtroppo Lanciata In condizioni Non ancora Ottimali Esattamente Come detto Ci sono sicuramente Tanti aspetti positivi Vedi il supporto Di DLSS3 Oltre a FSR XSS ITG E un indubbio potenziale Ma al contempo Un confronto Fra le impostazioni Non produce Attualmente Le differenze Che sarebbe stato Lecito Attendersi Dalla versione PC Del gioco Vedremo fra qualche giorno L'analisi completa E le sue conclusioni Va bene Siamo All'inizio Cioè Ormai la pubblicazione Di un gioco È un qualcosa Che dura Nel tempo Nei mesi Ci vuole qualche mese Per arrivare A mettere le mani Su una versione Come dire Più rifinita Di un gioco Pubblicato Dunque Dunque KJ Walter Caraibi Dunstee Vedi Non ti stai mai zitto Dice Skyfly83 Per me pure Un nuovo Killzone Sarebbe più interessante Di Spider-Man Wolverine Dice The Mix Killzone però È di Guerriglia Invece Come si chiamava Quello di Insomniac Resistance Resistance Bello Resistance Resistance era bello Mi ricordo Il primo Resistance Era sfizioso Ecco un nuovo Resistance Da parte di Insomniac Potrebbe essere divertente Assolutamente Però Il Il problema Di The Mix Con Spider-Man Non è sul tipo di gioco È sul fatto Che c'è Spider-Man Cioè Sul fatto Sulla La noia Da Supereroi È quella roba lì Perché non è il tipo di gioco C'è il tipo di gioco Spider-Man Cioè se ti piaceva tipo Sunset Overdrive Magari sono Ci sta Cioè cambia un po' Il personaggio Spider-Man Secondo me è proprio Spider-Man Che dà Che dà fastidio Dunque Io vorrei Un grandissimo gioco Di Daredevil Dice Jenny Flipper Ah Anche a me Farebbe piacere Però è una roba Fatta bene Anche nelle atmosfere Mamma mia Potrebbe essere Fighissimo In effetti Credo che se Insomniac Non avesse dovuto sviluppare Spider-Man Dice The Mix Rift Apart Avrebbe avuto Molto più contenuto Per quanto bello Invece Rift Apart È un po' scarno Di contenuti Rispetto ai capitoli Precedenti Non lo so Non Non lo so Se Non fai Spider-Man E fai Magari Hanno deciso loro Di Anche con Sony No Di Cioè Mi sembra strano Che non fai Un intero gioco Per farne un altro Solo Con più contenuti Non lo so Anche perché hanno fatto Spider-Man E Miles Morales Pure In pochi anni E subito dopo Rift Apart Non lo so Avrebbero potuto farlo uscire Semplicemente Un anno dopo Rift Apart Con più contenuti Oppure fai Spider-Man Ma non fai Miles Morales E fai Rift Apart È difficile Perché Cioè Miles Morales Pure Che Sembrava Anche una sorta Di DLC E cioè Una roba Bella corposa In realtà Quindi Per mettere Qualche contenuto In più A Rift Apart Probabilmente Sarebbe bastato Un anno in più Di sviluppo E basta Magari Non lo so Puoi vedere I tempi Però Com'è difficile Questo È difficile Anche dire Se non fai Spider-Man Esce Ratchet & Clank Rift Apart Con più contenuti Sicuramente Sarebbe stato più facile Mettere più contenuti Ma magari Non sarebbe stata Lo stesso Quella la decisione Perché Se non fai Spider-Man Fai un altro gioco Più che Semplicemente Più contenuti Per un Singolo gioco Caraibi Paris Vito Diamoci una mossa Con sti 3 milioni Più vendita Officine Investimenti Nel Wallover Esatto Skyfly83 Esattamente Giada Di Every Eye Dice Dan Stilo Lavora per loro Solo lato Twitch Da esterna Dobbiamo fare Una cosa Del genere Sì Dobbiamo fare Una cosa Del genere Dan Stilo Sì Possiamo fare Una roba Stile Giada Assolutamente Ho messo In primo piano Un messaggio Ma non volevo Come faccio A toglierlo Qua Così Che era Il messaggio Di Cesocelli Che salutiamo Caraibi Cesocelli Hai mai Giocato Agli RPG Con i combattimenti A turni Alla Baldur's Gate Dice Scatole Cinesi Sì Scatole Cinesi Ho giocato Proprio a Baldur's Gate Attenzione Non sono combattimenti A turni Era Come si chiamava L'Infinity Engine Di Baldur's Gate Di Bioware Dell'epoca Che era Un combattimento In realtà Che se tu lo lasciavi andare Era anche in tempo reale Ma potevi mettere In pausa In qualunque momento C'era la pausa Il famoso La famosa caratteristica Del combattimento Di Baldur's Gate Sì sì Ci ho giocato Mi piace molto Per giocare Da scrivania È una roba fantastica Secondo me Proprio molto bello Jan518 Caraibi Super Saudi 88 Caraibi Armored Core 6 Dice Silver Brain È il seguito spirituale Di Sekiro Facciamo chiarezza Esatto Sembra un po' Che si volesse buttarla Un po' Così Manforte Che succede Manforte Ne Che è barese No è un altro tipo di Ne Piro Owens Caraibi Ma chi scrive L'articolo è di buon cuore Dice Schiaffler83 Ne ha in abbondanza E vuole offrirne a tutti Ma quello Sicuramente Porrino90 Caraibi Caraibi Air Foxy La traduzione delle sue frasi È fatta con Google Translator Quanto meno Potevano verificarlo Prima Dice Air Foxy Salve Salvino Shepard91 Shepard90 Non significa niente Perché non è Il sito della chiarezza Questo Dice Arius80 Multi È il sito Delle notizie Che in realtà Non sono notizie Dice Paris Ma non tanto multi Un po' Chiunque Secondo me Mi sa Ultimamente Quei I cornetti Li chiamiamo Paste O brioche Dice Mv93 Ma non riesco ancora A chiamarli Così Li chiamano Paste O brioche Non riesce Mv93 Ricapitola un attimo Dove sei adesso E da dove vieni Cioè perché mi sembra Che parli di un posto Dove stai vivendo O sei magari In vacanza Ma che non è Il tuo posto Di origine Spiegaci questa Cosa Contestualizzaci Tutto questo Il tuo voto Lord Il mio voto A Lords of the Fallen Dell'epoca Era molto alto Perché Era una roba di cui ero molto contento Il coraggio di una software house Poco conosciuta Che faceva una roba come Dark Souls Il primo gioco alla Dark Souls Non di From Software Ero molto contento Ero molto contento Quindi voto molto alto 8 e mezzo Una roba del genere In realtà Secondo me Tolto Quell'entusiasmo Lì Il gioco Non era Un granché Non era neanche una roba Fatta male Però Non era un granché Oggi si perde Molto di più Insieme a tutto Il resto Della roba Che è uscito In mezzo a tutta l'altra roba Che è uscito Anche a me piacerebbe Da morire Daredevil Dice Skyfly83 Il mio personaggio preferito In assoluto Ma non mi illudo Penso non arriverà mai Daredevil Non è Spider-Man Né tantomeno Wolverine Io Non lo escluderei Invece Un videogioco Con Daredevil Protagonista Perché Secondo me Potrebbe essere una roba Molto molto figa Allora Però Lo devi fare un po' Bello proprio Purtroppo Ahimè Deve essere un po' Narrativo Come gioco E il gameplay Invece Deve essere una sorta Di Stealth Combattimento Alla Sifu Wow No Potrebbe essere bellissimo Dai Daredevil Col combattimento Alla Sifu Potrebbe essere Veramente Super figo Sul Returnal Ci tornerò sicuramente In autunno Dice Skyfly83 Ero al secondo bioma Tra le mie fissazioni C'è quella di classificare I giochi per stagioni Returnal Non va bene Per l'estate Dice Skyfly83 Interessante Questa cosa E Fammi altri esempi Di giochi Legati a particolari Stagioni Io invece Ci sto vedendo Più vicinanza Con Armored Core Dice Aris80 In Armored Core 6 Sì In effetti Sì Io in realtà Ho iniziato Returnal In attesa Di Atlas Fallen Dice Jenny Flipper Credo che sia Sui livelli Dei vecchi God of War Allora Per Septron Caraibi Potto Puck Caraibi Anche a KJ Speedipipa Troppi giochi Stanno uscendo Dice Shepard Assolutamente A furia di copiare Asset Dice Manforte Forse prima o poi Ci riescono a fare Un gioco Un po' più vicino Alla qualità Di quelli di From Software Può darsi Ukiyo 1996 Io ho appena preso Remnant 2 Sta installando L'avete provato Comunque quest'anno C'è parecchia roba Interessante Quest'anno c'è veramente Un macello Di roba interessante E no Non ho preso Remnant 2 Perché appunto C'è veramente Troppa roba Interessante I due mondi Sono interessanti Il resto Solito plagio Di Souls Dice Silverhand Sì ma sai cosa Silverhand A me Se il plagio Viene bene Io sono contento Invece quando c'è L'originalità E poi questa originalità Ti porta a qualcosa Non necessariamente Di figo Sono meno contento Quindi per me La ricerca Dell'originalità Non è necessariamente Un obiettivo Da porsi Quando si fa Si vuole fare qualcosa Di bello È meglio fare qualcosa Di bello Anche se è stato Già fatto Cominciamo dalla base Della quale Io sono sempre più Per la qualità Che per l'originalità E se poi Si riesce ad avere Tutte e due le cose Tanto meglio Però secondo me La qualità È più importante Dell'originalità L'originalità Ma qualitativamente Scarsa Proprio la Rifiuto Addirittura Perché Rifiuto La roba Qualitativamente Scarsa Non perché Io rifiuti L'originalità L'Eyes of P È molto meglio Di Lords of the Fallen Dice Shepard 91 Vediamo Lo vediamo Questo C'è tutto da vedere L'Eyes of P Per adesso Dalla demo È sembrato Promettente Lords of the Fallen Per me Può avere Potenzialmente Anche qualcosa In più Perché Per quello Che si è visto Può essere Più figo Però Siccome non l'abbiamo provato Può anche fare Più schifo Invece E quindi Aspettiamo A giudicare Sta roba La Legacy of Kane È bellissima Dice Silverhand Molto Legacy of Kane Il passaggio tra i due piani Di esistenza Sottolinea anche Jerry Italia Che Gespi di Pippa Dice Per favore Guarda Non usare la N-word In modo così leggero Che cosa ho detto Che Gespi di Pippa Qui siamo già All'Ammazza Caffè Dice Manforte Ho finito Final Fantasy XVI Dopo 70 ore circa Dice Che G Walter 5586 E nel complesso Mi è piaciuto molto Ed ho sempre avuto Voglia di giocarlo Le interruzioni Erano solo dovute A Diablo 4 Che è sempre una droga Ha piaciuto molto la trama La spettacolarità delle scene Ho trovato bello e divertente L'ho trovato bello e divertente da giocare Le attività secondarie Le ho completate tutte Solo per aumentare punti esperienza Ma nel complesso insufficienti Le cacce mi sono piaciute molto Alcune veramente spettacolari Comunque nel complesso Come primo Final Fantasy Per me è stata un'esperienza positiva Mi mancano due trofei Per il platino Tra cui quello del New Game Plus Che sto giocando Con la difficoltà maggiore Che avrei messo come selezionabile Già nella Blind Run Dice KJ Walter 5586 Grazie per la tua Mini recensione Che KJ Walter Sono molto contento Che il gioco ti sia piaciuto Così tanto A me non sta piacendo così tanto Perché io sto soffrendo Un po' dei cali di ritmo Che il gioco secondo me ha O almeno che su di me risultano essere tali Mad Sucker dice che Primo Final Fantasy ha detto tutto Io non so No Secondo me no Nel senso che per me Il problema non è Quanto è Final Fantasy Quanto non è Final Fantasy Per me i problemi che ha il gioco E che io ritengo problemi Prescindono dall'essere o non essere Final Fantasy Cioè il fatto che mi annoio Ad andare avanti e indietro Tra i personaggi a parlare È una roba che Oppure c'è veramente delle lungaggini Esagerate nei dialoghi La lentezza che si porta dietro il gioco Nei dialoghi Nelle cose Nella transizione Tra un dialogo All'altro Anche saltandole le cose Comunque ti annoi Comunque ti annoi Perché puoi saltare Ma poi c'è quella transizione Prima di poter Di farti saltare Un'altra roba Mamma mia Veramente Veramente pesante Mentre mi piace molto Combattere Devo dire In Final Fantasy XVI E non credo che il fatto che a KJ Walter sia piaciuto È perché è il primo Final Fantasy I motivi per cui a me non piacciono certe cose Prescindono dall'essere o non essere Final Fantasy La prima copia Souls Che mi sembra davvero un bel gioco Dice Silverhand Questo Lords of the Fallen Però anche Lies of Peace Secondo me Lui è il penitente di Blasphemus Dice Passerotto Non mi piace moltissimo il sound Dice Shepard 91 Anche quello magari proviamo Vediamo il gioco Completo Molto bello anche tecnicamente Dice Scatole Cinesi È copiato pesante dai Souls Non che sia male Dice Pottopuk Esatto Non che sia male Cioè secondo me Se devi fare una roba bella Copiare una roba bella Può essere Un modo per arrivare All'obiettivo che ti sei prefisso Cioè essere a tutti i costi originali Non è detto che ti porti Ad ottenere poi un risultato buono Invece copiare una roba bella Ma copiarla bene Ti può portare ad avere una A fare una cosa fatta bene Speriamo sia questo Questo Lords of the Fallen Allora Ho prenotato la Collector Di Lords of the Fallen Lo attendo tantissimo Dice KJ Walter Che entusiasmo oggi Per KJ Walter Grande entusiasmo Per Final Fantasy XVI E addirittura Prenotata la Collector's Edition Di Lords of the Fallen Grande KJ Walter Il Sodoma Caraibi Cosa stiamo vedendo Stavamo vedendo Un video di gameplay Di Lords of the Fallen Gioco in uscita il prossimo 13 ottobre Che è un Un Souls-like A tutti gli effetti E che sembra essere Anche Abbastanza Interessante Dunque Attenzione non sa dove andare Dice Manforte È un Dark Souls fatto Mi sa che è pure cooperativo Dice Jerry Italia Sì come abbiamo visto Poi più avanti In questo video C'è anche la parte cooperativa Anche quella Sembra interessante Soprattutto se Quello che ci ha spiegato La voce Narrante Corrisponde a Una roba Comoda Cioè il fatto che dice Che tu puoi evocare Un compagno Un amico Oppure un giocatore Assegnato dal matchmaking E poi rimanere a giocare Con lui Fintanto che vi va Questa è una roba Che non succede Nei Souls E che potrebbe essere Un po' la svolta Hai notato che su schermo Non c'è niente Come mai secondo te Per non far capire cose No secondo me Passerotto Perché Non c'è Intanto per far vedere Meglio Esteticamente Il gioco E poi perché Magari Stanno ancora Sistemando Stanno ancora Ritoccando Quella parte Di interfaccia E quindi Non te la vogliono Far vedere Adesso Ma secondo me Soprattutto per farti Vedere meglio La grafica Delle ambientazioni Hanno ritenuto Che fosse più bello Così Secondo me È questa La scelta Dubbio Amnetico La scala O dritto Serve il navigatore Dice Manforte PayGuard Twitch Ragazzi Piccolo off topic Qualcuno sa Dove posso prendere La collector Di Baldur's Gate 3 So che è già terminata Purtroppo Ma chiedo per conferma Nel caso ci fosse Qualcuno Che la vende Dice PayGuard Twitch Ragazzi Se avete idea Io ovviamente Non ho la minima idea Perché Chiaramente La collector Significa roba fisica Magari anche Gioco fisico Quindi proprio Inesistente Per me Come cosa Però se qualcuno Riesce ad aiutare PayGuard Twitch Lo faccia Grazie Ualo Ha già gli occhi A cuoricini Per Lords of the Fall Eh un po' sì Un po' sì Un po' sì Devo dire Un po' sì Per questo Final Fantasy XVI Mi è piaciuto Dice The Mix Artisticamente Ormai la maggior parte Dei giochi Pare fatta Con lo stampino E lo è E Cioè dici Che si copiano Un po' tutti Final Fantasy XVI Final Fantasy XVI Ti è sembrato Particolarmente Originale Esteticamente A me A me Non tantissimo Però Molto bello Quello sì Ma infatti Io non ce l'ho Questa cosa Del Della ricerca Ma non credo Che possa essere Originale Final Fantasy XVI Nelle sue Ambientazioni Nelle sue cose Beh è una roba Fantasy Di quel tipo Lì Dunque Hendrix Underscore Andrea Ha rinnovato L'abbonamento Con Prime Per un totale Di nove mesi Grande Hendrix Grazie per il supporto Un abbraccio Digitale A Hendrix Underscore Andrea Grazie per i nove mesi Dunque Non riesco Non riescono A trovare Un'identità Loro Dice Shepard91 C'è molta voglia Di copiare I progetti Degli altri Ma secondo me Si parte Dall'ispirazione Ai progetti Degli altri Tu dici Mamma mia Com'è bello Com'è mi piace Dark Souls Voglio fare Una roba simile E ci si può stare Nel Come cosa Anche Dark Souls Non nasce Non è una roba Per forza Super originale È un insieme Di cose Che mescolate In quel modo Hanno dato vita A un prodotto Originale Per molti versi Però non è Che non esistesse Il dark fantasy O Quel tipo Di magie O quel tipo Di armi O quel tipo Di armature O Che ne so Un sacco Di 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 robe Di cose Che si vedono In dark souls No Poi Secondo me Vale più Farle bene Le cose Niente può essere Veramente Cos'è originale Ditemi La cosa più originale Che vi viene in mente Nel mondo dei videogiochi O dove vi pare La cosa più originale Qual è La cosa più originale Che non ha copiato Cioè già il fatto Di essere un videogioco Non è originale No Se vogliamo Che stai facendo Una roba Dove c'è Un personaggio Che tu muovi Attraverso il controller Cioè L'originalità Ragazzi È Difficile È proprio Una roba Completamente Originale È molto Difficile No Ma non esiste Per me E quindi Non è neanche Un parametro A me non interessa Neanche come parametro Da Da inseguire Pong Dice Potopuk È originale Perché dice Potopuk Dice Io adesso ti prendo Il primo videogioco E ti dico Che è originale Ma Non fa altro Che copiare Il tennis Però Cioè Il concetto Di stare Uno da una parte Uno dall'altra E scambiarsi Una palla Cercando di non farla Prendere All'altro Tutt'altro Che originale No Forse Pacman Dice Hendrix Andrea E fai bene A metterci Quel forse Hendrix Perché Probabilmente Adesso Non lo so Ma Probabilmente Di giochi Dove Tu ti muovevi Su Qua ci vorrebbe Babich Per esempio Per parlare di questa cosa Dove tu ti muovevi Con Quella visuale Come la vogliamo chiamare Top down Non si capisce Perché Pacman Tu lo vedi Di Profilo Però Quella roba Magari è come se Tu la vedessi dall'alto Non si sa Pacman Secondo voi Come è messo Forse ne abbiamo già Discusso di questa roba No Ma secondo voi Pacman Come Che cosa Che cosa ci racconta Quella visuale Di Pacman Cosa stiamo guardando Una cosa dall'alto Verso il basso O una roba Che è in In orizzontale In verticale Su una parete Come funziona Pacman Dov'è Com'è Com'è fatto È schiacciato A terra Cioè Andiamo a vedere Per capirci No Se noi Prendiamo Che ne so Sensible soccer No Se noi guardiamo Sensible soccer Qua C'è Falco nero Che ci gioca No E qua Stiamo guardando Una roba dall'alto Verso il basso No I calciatori Cioè C'è anche C'è anche un po' di No In realtà pure qua C'è quasi lo stesso Problema di Pacman In effetti Perché i calciatori Sembrano Essere in una visuale Isometrica Il campo no Il campo è Dalla pure qua Ok Sensible soccer Esempio Pazzo Non va bene Cosa possiamo fare Per vedere Questa roba Così Che cosa Possiamo usare Possiamo usare Come pensare Un gioco Che è Dall'alto Verso il basso Ma Giusto Non lo so Neanche Tipo Commando No Perché Commando Pure C'aveva la stessa Follia Stesso Problema No Però questo Sembra un po' Più Isometrico Dai Questo Sembra un po' Più Isometrico Non solo Nel Nei personaggi Ma anche Sì Vedi Cioè Il palazzo Qua È un po' Storto Ovviamente Questo è fatto In modo Però il trucco A noi non ci interessa Cioè Questo è tutto 2D Ed è finta Non è roba tridimensionale Così No è tutto 2D Il personaggio è appiccicato Là sopra I palazzi Pure sono appiccicati In questo modo Invece L'elicottero Sembra inquadrato Proprio dall'alto Vabbè Ma comunque Ma Pacman Pacman Cosa fa? Che cosa stiamo guardando? Che roba è Pacman? Pacman è bellissimo Perché non Non ti deve spiegare niente È così e basta Cioè Non è Che sta simulando Qualcosa della realtà Cioè Pacman È di profilo Ed è di profilo Su questa cosa Non si sa Se noi lo stiamo guardando Dall'alto E lui è schiacciato Sul piano Cioè Quindi praticamente È sdraiato E si muove Da sdraiato Così come anche I fantasmini I fantasmini Sarebbero tutti sdraiati E si muovono Traslando Mentre sono sdraiati Oppure Sono tutti in piedi Come sembrano Pacman Pacman e i fantasmini In piedi poi Cioè Abbiamo capito E quindi sono su Cioè Riescono a muoversi Su questa roba Che è verticale Ve lo siete mai chiesti Questo fatto? Oppure Semplicemente Non ce lo si chiede E basta Perché Pacman È un videogioco E non Non ha bisogno Di Cioè Non sta rappresentando Un tipo Di realtà O qualcosa Di realistico È questo Questa roba qua Quello che vedi È così C'è questa roba In questa cosa Shadow of Love Che saluto Dice Sta insinuando Che i cavalieri Di Elden Ring Sono lì Solo perché Sono lì Senza motivo Sì Lo sto facendo Shadow of Love Tra l'altro Fatemi salutare Shadow of Love Che ho scoperto Di cui ho scoperto Varie cose In questi giorni E ribadisco L'invito Fatto indirettamente Anche a Shadow of Love Di creare Un canale YouTube Per raccontarci Delle cose Che non voglio Neanche spoilerare Ma che potrebbero essere Decisamente Molto interessanti Grande Shadow of Love Allora Avete capito C'è questo problema Di Pac-Man Perché ne stavamo parlando Perché stiamo parlando Di questa roba Di Pac-Man Mi sono dimenticato Ah Per la questione Dell'originalità Giustamente No Dicevo Anche Pac-Man Probabilmente Anche Pac-Man Probabilmente Nel 1980 Fa questa roba Di avere questo tipo Di schema Così Che probabilmente C'era già In altri giochi Quindi Anche lì L'originalità Non lo so Non lo so Ci sarà qualcosa Di precedente A Pac-Man Che aveva già Quest'idea Del labirinto Boh Non lo so Di sicuro C'erano già Videogiochi Con questo tipo Di Quadro Chiamiamolo così Scatole cinesi Dice Ho sempre pensato Che il videogioco Ha fatto il percorso inverso Rispetto a quello Fatto dalle arti figurative Si è passati Dall'astrattismo Al realismo Per necessità Scatole cinesi Perché ovviamente All'inizio Era difficile Cominciare col realismo Nella pittura Tu ci provi Fai Però Nel videogioco Insomma È un po' più difficile Anche se Pong Citato da Potopuk Comunque È una roba Che tendenzialmente In un certo senso Vuole essere realistico Non astratto Cioè Vuole fare il tennis Quindi L'intento È un po' Anche realistico Magari Pacman Un po' più astratto Pacman probabilmente È un po' più astratto A meno che Non lo vogliamo Intendere come Una critica Alla Alla freneticità Della nostra società La necessità Di stare sempre In movimento Consumare Il più possibile Perché Altrimenti Gli altri Ti vengono addosso Cioè potrebbe essere Anche questa cosa In Pacman Potremmo leggerci Tranquillamente Anche questa roba qua Volendo No Ma come si come qua Anche qualsiasi Altra cosa Magari Volendo E E The Calcifer Stavamo guardando Lords of the Fallen E poi ovviamente Come al solito Abbiamo cominciato a parlare Di qualsiasi cosa Allora ragazzi Stasera Ci sarà una live serale Alle 22 Confermato Una live serale Di chiacchiera Di vari argomenti Di cui non vi dico Nient'altro Però Seguitela e basta Alle 22 Ok Chi c'è? Sondaggio Sondaggio Chi potrebbe esserci Stasera Per una live serale Allora Vediamo Ci sarete stasera Alle 22 Allora Allora Ma al solito 5 risposte Via Al sondaggio Vediamo un po' Quanta gente C'è stasera Alle 22 Dunque Ehm Non si vede Nemmeno il puntino Del lock Dice Passerotto Sì secondo me Hanno tolto Tutta la roba Di UI La camera Sembra ok Dice Shepard 91 E lo dice Alla reception Dell'albergo Dove è andato A In vacanza Ehm Dunque Magari lo mettono Nell'extra Di ottobre Dice Passerotto Chi? Lords of the Fallen Il playstation plus Il playstation plus Ho un po' Di dubbi Io ho letto Che insomniac Ha un altro gioco In sviluppo Oltre spiderman E wolverine Come fanno Dice Shepard 91 E non lo so Ma veramente Sono super Comunque A livello di Capacità Di sfornare Roba Sunset Overdrive L'ho rigiocato Di recente Su Steam Decoro Mi è piaciuto Dice The Mix 231 Ma secondo me Ti piace anche Spiderman Allora The Mix Alla fine The Mix Diventa fan Di Spiderman E non ci pensa più Paris dice Walone Lascia perdere Digital Foundry La conversione PC È ottima Basta Basta Avranno trovato Delle cose Per dire Quelle cose Che hanno detto Lord Dave The Kind Non ho letto L'articolo Ma quello che vedo Adesso a schermo È una bella Castroneria Però Digital Foundry Diceva anche Che Jedi Fallen Order Era in condizioni Talmente pietose Che non sarebbe Dovuto essere Commercializzato Addirittura Ha detto questo V4 Vendemmia E poi Per Lord Dave The Kind Quello secondo me È vero Guarda com'è bello L'incastro Dei pareri Che non si È bello Bellissima Sta cosa Bellissima Provato ieri Ratchet su PC Dice Passarotto 75 Con l'hard disk Della PS4 Funziona Ci mette 4 secondi A caricare un portale Con un hard disk Meccanico Da 150 megabyte Al seconda Uno scatto Prima di caricare Un portale Con SSD Immediato Attenzione Ha visto le analisi Dettagliate di Passerotto Allora intanto Stasera Ci sarete Alle 22 Certo 40% Ci provo 28% Non lo so 12% Credo di no 12% No Mai 8% Molto bene Non mancate Mi riferisco soprattutto ai credo di no e no mai E soprattutto ai non lo so Non mancate Anzi Siate numerosi Ciascuno di voi lo sia Servono come al solito Delle patch Ma non è meglio far aspettare un mesetto Ed avere il gioco che funziona bene Con The Last of Us Parte 1 Mi sono intossicato Dice Scatole Cinesi Secondo me Scatole Cinesi Dobbiamo fare due ragionamenti Uno Cosa è meglio fare Per Sviluppatori E produttori Di videogiochi Due Cosa è meglio fare Per Noi Videogiocatori Quello che è meglio fare Agli sviluppatori Produttori Di videogiochi È più difficile Da determinare È più difficile Da Da capire Eccetera Perché comunque Se loro ci guadagnano così E loro hanno fatto Dei calcoli Per cui dici Sì Magari scontentiamo qualcuno Però intanto Si parla di più del gioco Usciamo prima Prendiamo prima i soldi Poi lo facciamo anche Bello E quindi Per altri che arrivano A giocarlo dopo Il gioco sarà anche bello Quindi magari per loro Può funzionare così Ma Per essere furbi noi Non ce ne deve fregare Di cosa dovrebbero E come dovrebbero Fare loro le cose Noi ci muoviamo Secondo il nostro interesse E quindi nel nostro interesse Possiamo smettere Di comprare i giochi Al day one È evidente No? Cioè Su questo Noi possiamo intervenire Ed è una cosa Intelligente Da fare Voglio giocare a questo gioco Lo giocherò Tra sei mesi Sei mesi Così Nel frattempo Loro lo sistemano E io me lo compro Fra sei mesi E quindi Cioè a posto Costa meno Si sanno più cose È stato sistemato È stato pecciato Se non è buono Possiamo non comprarlo proprio più Cioè c'è troppo vantaggio Ad aspettare Perché facciamo fatica A farlo? Come mai facciamo fatica Ad aspettare Soprattutto Ratchet & Clank Rift Apart Per Cioè Non ha multiplayer Non è una roba Da community Che devi giocare È una cosa Di cui già si sa Tutto Cioè neanche quella cosa Dice Però poi Se il gioco esce Se la gente ne parla È fuori da due anni Questo gioco Quindi neanche Quella roba là Qual è il problema? Aspettiamo E giochiamocelo Tra sei mesi No? Così è sistemato Bello Tutto a posto A modino È difficile In realtà Si sono lamentati Del ray tracing Dice The Mix Che è implementato Peggio che su PS5 Anche su hardware Di fascia alta Problema che pare Risolvibilissimo Ci sono anche Un paio di texture Sembra che non sono Di alta qualità Su PC Ma è tutta roba Abbastanza marginale Ma soprattutto Secondo me Risolvibile E questo ci riporta Al discorso Che Perché non aspettiamo? Oppure Come dice Arius 80 Se li compriamo subito Non lamentiamoci Esatto Oppure questo Anche questo Per me è valido Cioè li compriamo subito E sappiamo Che è così Perché vogliamo giocarci Prima Eh vabbè Pazienza Magari nel gioco Multiplayer Può anche avere senso Voglio giocarci da subito Tanto ci giocherò Anche tra sei mesi Me lo godrò comunque Quando l'avranno aggiustato Però Ratchet & Clank Rift A parte È un gioco da 20 ore Tipo Più o meno 20-30 ore Non mi ricordo Adesso quanto tempo Ci si può spendere Credo più 20 Che 30 Ed è una cosa Che magari tu giochi E poi finisci E metti da parte Ma a quel punto Tra sei mesi Anzi io queste robe qua Le aspetterei Veramente proprio solo Negli abbonamenti Questi giochi qua E Lascerei proprio perdere Veramente L'acquisto Di Ratchet & Clank Rift A parte A parte A parte Chiamare macchina Windows La dice lunga Sulla faciloneria Delle loro opinioni Attenzione Lord of the kind Eh Però il gioco Gira su Windows O no Ratchet & Clank Rift A parte Magari no Magari Non necessariamente I giochi Non mi ricordo più Che cosa stavo pensando Ha usato un PC Con le stesse caratteristiche Di PS4 Non solo L'hard disk Dice Passerotto 75 PS4 Monta un hard disk 5400 RPM Se non erro Dice Shepard 91 Non è credibile Dice Paris Se sviluppi per hard disk Meccanico Gira lo stesso Andrebbe cercato In rete Un video con hard disk Da 5200 giri Non ho capito Cos'è che non è credibile Cioè Tu non credi A quello Che ha fatto Digital Foundry Di provare Quella roba E vedere Che il risultato Era quello E che cosa Avrebbero Fatto Secondo te Cioè Hanno messo in piedi Una cosa Falsa Per quale motivo Screditare Vanno contro Il mondo PC Qual è Il motivo Per cui Non è credibile Quella roba là Hanno sbagliato Tipo E in che modo Hanno sbagliato Sarà successa La cosa Che è successa Però Cioè Qual è L'idea Perché a me Per me È molto più facile Dire Vabbè Questi fanno Ste robe Fanno ste prove Hanno pubblicato Un video Di una roba strana Che è successa Durante una prova E dico No vabbè Questo è su un hard disk Più o meno Della stessa velocità Di quello di PS4 A giocarci Succede questa roba qua Io poi ci aggiungo Addirittura Ma non è neanche detto Non è neanche detto Che su PS4 Perché se tu poi Lo sviluppi Su PS4 Il gioco È ovvio Che Non lo pubblichi In quel modo Stai attento A farlo uscire In un certo In un certo modo Non è che su PS4 Non si poteva andare Da un mondo All'altro Nei videogiochi No lo facevi Dovevi aspettare più tempo Magari Le animazioni E le cose Le transizioni Te le studi In modo diverso Per farle sembrare Più fighe E non scattose Non so se è chiaro God of War C'aveva quel sistema In cui tu entravi In quel mondo Un mondo un po' Azzurro Prima di passare A un altro mondo E quella roba Era fatta molto bene Per nascondere i caricamenti Magari anche con Ratchet & Clank Avrebbero scelto di fare Una cosa del genere Però non è che non fai proprio Tutto quel gioco Su PS4 Lo fai E ci metti Questo accorgimento Air Foxy Il punto è che Non hanno più voglia Di ottimizzare Se volevi questo gioco Lo facevi cross-gen Come God of War 2 Tanto per citarne uno O Horizon Forbidden West Air Foxy Questo non era godibile Così dai Dice Uzumaki Kun No ma Avresti fatto diversamente Se l'avessi fatto Su PS4 Uzumaki Kun A me sembra Tanto un articolo Scritto di consolazione Per la loro utenza PlayStation Come per dire Tranquilli Voi avete fatto Ancora la scelta migliore Dice Lord Dave the Kind Ma perché pensi Che l'utenza Di Digital Foundry Sia utenza PlayStation Cioè non ci sono Altre Io Tutte le robe Che ho visto Con attenzione Di Digital Foundry Sono generalmente Oh abbiamo provato Questo gioco Gira Con questo tipo Di frame rate Se metti Queste impostazioni Gira con quest'altro Tipo di frame rate Vedete qua Ci sono dei cali Queste robe qua Loro riportano Dei dati E li commentano Fondamentalmente A volte Commentano anche Estetica Memphis Questo gioco E beh A volte anche Il gameplay Dicono anche cose Questo gioco Molto coinvolgente Però fondamentalmente Riportano dati E li commentano E Secondo me Secondo me Non c'è Tutta questa roba Possiamo anche Non vederla Girare Ad essere Ed essere Giocabile Sono due cose Diverse Però Dice Arius 80 Esattamente Come Demons Dice Shadow of Love Sono scelte Di marketing Prese ancora Prima Della pandemia Quando ancora Sony voleva Spingere solo PS5 Non mi sembra Ci sia nulla Di scandaloso No Diciamo che A me Non piaceva Come tipo Di scelta Nel senso Che se tu Hai la possibilità Di Cioè se Devi impegnarti Su una roba A un certo punto Sai che Tutti il pubblico È passato di là Allora certo Ha senso Assolutamente Ottimizzi di più Sfrutti meglio L'hardware Eccetera Ma se devi fare Un gioco Che ci gira Comunque Su Ci girerebbe Comunque Sull'altra piattaforma Boh È veramente Proprio Sì Una scelta Un po' Più Di marketing Che però Poi hanno Anche ritrattato Loro stessi Più avanti Infatti La scelta Di non portarlo Su PS4 È stata Semplicemente Una scelta Commerciale Di obsolescenza Programmata Dice Dice Lord Secondo me Passerotto Ci aggiunge Dovevi cambiare Qualcosa Per portarlo Su PS4 Ovviamente Io do per scontato Che Avresti dovuto Anche cambiare Qualcosa Per portare Ratchet & Clank Su PS4 Sicuramente The Last of Us Su PS3 Partite da 60 Giocatori Fantastiche Hai visto che cosa Si ricorda Per Septron A me piacerebbe Un nuovo Infamous Dice Shepard91 Che però È di Sucker Punch Che sono quelli Di Ghost of Tsushima Non di Insomniac Arius 80 Ragazzi L'informatica Non è magia Se non sfrutti Il bus E la velocità Di un SSD Allora devi caricare Tutto in memoria Su PS4 La cosa Non era fattibile Poi certo Girare Poteva girare Ma sarebbe stato Giocabile No Avresti Io avrei fatto Una roba Sì comunque Probabilmente Un gioco come Rift Apart Magari non lo concepisci Proprio neanche Dai Questo si può dire Nel senso che Se tu punti Tutto sul fatto Dei passaggi Interdimensionali Magari Quella è una cosa Che proprio Ti viene in mente Perché Quella roba La vuoi fare Perché sai Che hai L'SSD veloce Probabilmente In quel caso Sì Ratchet & Clank Un po' diverso Da Demon's Souls Da Returnal Che pure Erano usciti Solo per PS5 Magari Senza Motivazioni Analoghe Demon's Souls In particolare Visto che È il remake Grafico Di un gioco Per PS3 Quindi Di sicuro Ne potevi fare Una versione PS4 Dello stesso Remake Grafico Dunque 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 Esatto Shepard Infamous E di Sucker Punch L'ho fatto Mai Per il dispiacere Di Manforte Ti dico che non ho mai Giocato a Pikmin Il porro di multi Che fine ha fatto Dice Manforte E ha lasciato E ha lasciato multiplayer Aveva anche salutato Nei giorni scorsi E poi non so che cosa Stia facendo Adesso Lo salutiamo È porrito Dunque Tony Doctor Doom Qualche giorno fa Mi sono letteralmente Sfondato malissimo Col primo Hitman Di IO Interactive Grandissimo gioco A mio parere Sottovalutatissimo È passato troppo In sordine E ingiustamente Lo stealth È fatto benissimo E c'è una varietà Di gameplay Eccezionale Anche la grafica Non è affatto male Sono contento Per te Tony Doctor Doom Quello è un gioco Che Per esempio A me Non può Piacere Non facilmente Almeno L'ho provato Forse Il primo Hitman Di IO Interactive Non Non mi ci Trovo proprio In quella roba Un po' Quasi Da enigma Con Diverse Soluzioni Possibili In cui però Devi stare attento Metti là Il travestimento La telecamera La ti vede Passa da quella Mi annoio Però sono contento Che ti piaccia Non lo posso Proprio giudicare Io Per invece Non posso arrivare A capire Quanto bene Sia fatto Perché Mi fermo Molto prima Di poter Arrivare A giudicarlo Hai detto Nio Tre volte Dice KJ Spidi Pippa Sì Ci sta Mad Sucker Ah no Diceva Primo Final Fantasy Per KJ Walter Era No ma Secondo me Non è tanto Non penso Che gli sia piaciuto Per quel motivo Gli è piaciuto Perché gli è piaciuto Il gioco A me Invece Non sta piacendo Tantissimo A livello di ritmo Ma comunque Poi ci sono delle cose Che mi piacciono Però le cose Che non mi piacciono Non riguardano Il non essere Molto da Final Fantasy Anzi Anzi probabilmente Non mi piacciono Cose Che forse Sono un po' Da Final Fantasy Arius 80 Secondo me È meglio Niente pregiudizi Su Ma non è un Final Fantasy Anche un po' Chi se ne frega Peraltro Eh sì Esatto Per me È abbastanza Chi se ne frega Però Mad Sucker Adesso prova a spiegarci Intendo che Giocarlo Come primo Final Fantasy Non storci il naso Se il Piros Lo puoi uccidere Con le abilità di fuoco O se il Morboro Non ti avvelena Diciamo che Non noti alcune cose Che solitamente In un JRPG Come i precedenti Final Fantasy Avresti notato E però Secondo me Queste non sono cose Necessariamente Negative No E soprattutto Sono cose Che puoi notare Anche Anche Rispetto ad altri Giochi di ruolo Dove ci sono I danni elementali E Ci sono Giochi dove I mostri di fuoco Non subiscono Danni dal fuoco Altri invece Dove li subiscono Lo stesso Al di là Dei precedenti Final Fantasy Comunque Non incide Tantissimo Questa roba Secondo me Nel Il gioco Ti piace O non ti piace Magari ti può dare fastidio Perché sei Un po' tu Pure un tradizionalista Della serie Quel tipo di fastidio Del purista Che subisce Il purista Generalmente Di una roba No Molto Una questione Molto Diciamo Tra virgolette Religiosa Soprattutto Però Tolto quello Non cambia molto Cioè Hanno aggiustato Questa meccanica Se funziona Se funziona Funziona Altrimenti Altrimenti No Il gioco Lo stai vendendo Dice Madsucker Come Final Fantasy 16 Non come Forspoken Se giochi Un Final Fantasy Ti aspetti La componente RPG Allora Ci può anche stare Questo discorso Ci può stare Sicuramente Cioè se uno Dice Ho giocato I Final Fantasy Precedenti Però Quello che direi Io È che se tu hai Giocato tutti I Final Fantasy Precedenti Hai già notato Che cambiano Tanto Da un episodio All'altro Pensa All'11 Diciamo sempre Questo fatto Final Fantasy 11 All'improvviso Hai bisogno Di una connessione Di un abbonamento Per giocare E magari uno L'ha comprato Semplicemente Perché c'era scritto 11 E però Wow C'è un cambiamento Veramente Drammatico Da Final Fantasy 10 A Final Fantasy 11 Molto più Di questo Molto più Di Final Fantasy 16 Dunque I giochi Originalsi Il tentativo Di giochi Originali Katrin Per Shadow Love Ma nemmeno Troppo Space Invaders Dice Lord Dave The Kind Asteroid Come giochi Originali Sicuramente Sono Tra i primissimi Però Space Invaders Anche lì Come tematica La questione Di Allora Innanzitutto Era un po' Diciamolo L'idea Del flipper No Space Invaders Nel senso C'hai la roba sotto Che deve colpire La roba sopra Spari da sotto Per colpire sopra C'è già nel flipper Questo concetto Anche lo stesso Cabinato Era un po' Il flipper Volendo Cioè Se tu Avessi fatto Una roba Ancora Diversa Ma però Quella roba lì Viene un po' Anche da quell'idea Di stare in piedi Davanti a una roba Anche quello Anche quello È poco Non è che è poco Originale Però Voglio dire Si capisce Perché sono fatti In quel modo I primi Videogiochi Da bar Tipo Space Invaders Perché Era quella postazione Tipica da flipper Per dire C'è sempre qualcosa Che ti rimanda A qualcosa Di precedente È difficile L'originalità Questa roba qua Per esempio È un fatto Che tu non ti aspetti Mai Perché Ma comunque È Una persona Davanti a un microfono Che emette Dei suoni Ok Però era per far capire Che Cioè Una roba Proprio Totalmente originale È una roba Che non sai Minimamente Prevedere Ok Non è che ti Cioè Non deve avere Niente In comune Con Devo smettere Di ascoltarti Mentre lavoro Una roba Original Deve avere Niente In comune Con Con le cose Precedenti Come ci si Disabbona Dice Chiede Dante Horror Show Perché Giustamente Adesso Che sarà licenziato Non può più Permettersi L'abbonamento Al canale Comunque Secondo me Oggi Nei videogiochi Dice Arius L'originalità È riuscire a mixare Elementi Già noti In modo alternativo Eh Questo ci possiamo Tipo Permettere No Arius Anche perché È difficile Inventare qualcosa Il profilo di Pacman Stiamo guardando Dice Arius 80 Esatto Oddio Non avevo mai pensato A questa cosa Dice Edoardo Rizzi Eh Edoardo Rizzi Oh no Che cos'è Cosa stiamo guardando Quando guardiamo Pacman Cosa guardiamo Dov'è Pacman Che visuale è questa Stiamo guardando qualcosa Dall'alto Verso il basso Stiamo guardando qualcosa Che è In verticale Su una parete E Parete poi È Un piano Messo In verticale Rispetto al nostro Sguardo Che cos'è È difficile Da capire No Questo fatto Perché Pacman È fatto in quel modo In quella È in quel verso È una roba È giusto Chiedersi Secondo me Pacman è ispirata A una pizza Oltretutto Dice Passerotto 75 Quindi non è originale Neanche da questo punto di vista Esattamente Si chiama volo d'uccello Quella visuale Dice Passerotto Sì Ma quella di Pacman Ah no Quella di commando Per esempio Perché quella di Pacman È volo d'uccello Boh Chi lo sa Che cos'è la roba Che vediamo In Pacman Dunque Perché pensi Che la visuale di Pacman Sia dall'alto Dice scatole cinesi Pacman si muove Come se stesse Su un foglio di carta È È il foglio di carta Dove è appoggiato Scatole cinesi Sulla scrivania E tu lo guardi dall'alto O Ha un muro Cioè Il foglio di carta Non mi cambia Non mi aggiunge Una specifica A questa cosa Eh Vorrei una linea di t-shirt Dov'è Pacman? Dice Shadow of Love E Poi sembra Nella stessa linea di t-shirt Cosa se ne fanno Dei soldi I mercanti Di Elden Ring Queste domande Noi ce le dobbiamo fare Ragazzi Noi ce le dobbiamo fare Mentre Passerotto Ha clippato Il fatto che non ti aspetti Ok Molto bene Buonasera Nabuz83 Caraibi Caraibi Lordgru79 Dice Ikari Warrior Come titolo di gioco originale Non lo conosco È talmente originale Che non lo conosco Allora The Calcifer Non è un falso valore L'originalità Eh Per esempio Si chiede The Calcifer Ti dà l'effetto Wow Della sorpresa Ok Ma il più delle volte Finisce lì È fine a se stessa Credo più nell'innovazione Piuttosto Nella capacità Di introdurre qualcosa Di nuovo Che sia in grado Di far progredire Il suo ambito Di riferimento E non è cosa da tutti Esatto Anch'io Credo più in questo Ma credo Ancora di più Nella qualità Che a differenza Di quello che pensa René Ferretti A me Non ha ancora Fatto quell'effetto Mi piace ancora La qualità La qualità Secondo me È una roba Cioè il gioco Fatto bene Oh Bello No Magari anche con Delle trovate Originali Dentro Però non è una roba Completamente Original Perché sennò La roba Completamente Originale È difficile Anche da gestire Vedi Adesso Dante Horror Show Sarà Licenziato Per colpa Di una roba Completamente Originale Un cartonato Invece Non fa licenziare Nessuno Però qui Non è neanche Più originale Perché è una roba Che facciamo Tranquillamente No Però magari Rispetto a Che ne so Una live Qualunque È una roba Che tu dici Ah guarda La fare Però poi Ti interessa Sta cosa Del cartonato Non è detto Magari ti interessa Più Che Cartonato Licenziatore Dice Manforte Ti interessa più Che si parli Di una roba Di cui hai voglia Di sentir parlare Non è che vai a ricercare Sempre per forza All'originalità No Però Comunque sto pensando Ci sono un sacco Di robe Di Del fatto che non ti aspetti Che possono Semplicemente per il fatto Di non essere rumorose Magari possono Possono essere Originali E E poco rischiose Può essere interessante Come Come cosa I cavalieri Di Elden Ring Sono pagati Per stare lì Dice Arius 80 E i mercanti Chiede Shadow Love Dunque Che è questa cosa Punta Al Concreto Ah Pacman La sigla Pacman Significa Punta Al Concreto Cioè Neanche Pacman Pac Secondo Nabut 83 I mercanti Sono lì per vendere E il loro lavoro Dice Arius 80 Scatole cinesi Ho sempre pensato Che il videogioco Ha fatto il percorso Ah sì questa era la questione Del percorso inverso Però attenzione Vedi che The Calcifer Dice non sono d'accordo Perché Allora Scatole cinesi Diceva L'avevo già commentato Prima perché Mi era capitato Di leggerlo In tempo reale Ho sempre pensato Che il videogioco Ha fatto il percorso inverso Rispetto a quello Fatto dalle arti figurative Si è passati Dall'astrattismo Al realismo E io dicevo Un po' per necessità Perché comunque All'inizio era difficile Fare la roba realistica Nei videogiochi Però poi pensandoci Ho detto Però in realtà Dipende Nelle intenzioni Magari no Perché Pong Che voleva Simulare il tennis Comunque Era Negli intenti Un fatto Realistico No? Non sono d'accordo Dice The Calcifer È lo stesso percorso Che si è fatto Dalle pitture rupestri Al rinascimento Solo dopo È successo il contrario Poi c'è anche questo Ma poi comunque L'idea del realismo Nei videogiochi C'era In Pong Nei giochi di guida Nei giochi di calcio C'era Non c'era il fotorealismo Per motivi evidenti E chiari Però il tentativo di fare La roba realistica C'era Anche in Forse anche in Space Invaders Tutto sommato È Pac-Man che ci manda in crisi Che cos'è Pac-Man? Che cosa sta facendo? Perché è lì Pac-Man? E soprattutto È in orizzontale O in verticale Come fa A cambiare Immediatamente Direzione Senza farci accorgere Del giro A 360 A 180 gradi Che fa Della sua faccia La sua faccia Di tutto se stesso Come fa? Cioè queste sono Robbe Allora c'è un obiettivo Nei giochi di Pac-Man Per Xbox 360 Ma immagino anche Poi quelli usciti dopo Sono usciti di nuovo Anche per Xbox One Ma sicuramente anche per PlayStation Me li ricordo Dall'epoca della linea Xbox Live Arcade Di Xbox 360 C'era un obiettivo Di Uccidere Tutti e quattro I fantasmini Con una sola Pillola Per Quattro volte All'interno Di Di un quadro Di un livello Qualunque Di Pac-Man Credo di non averlo Mai fatto O forse L'ho fatto Una volta Su uno solo Di questi Pac-Man Sono usciti diversi Pac-Man Miss Pac-Man Per 360 Poi per Xbox One Quindi altri due E' 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 Un' E' una roba che non piace a Chiara Ferragni per esempio è una metafora di Milano dice SDZ Play sì, cioè proprio tutto il concetto di Pac-Man, è anche un discorso di nuovo target, dice Arius 80 essendo oggi videogiochi anche per adulti si pensa che il realismo non faccia considerare il medium per bambini può darsi Pac-Man non era la simulazione di un rave party, dice Hendrix Andrea Mangi pillole sotto musica elettronica avendo le allucinazioni dalle quali provi a scappare? questa è un'interpretazione Hendrix non è che c'è una roba che poi deve essere per forza quello ricordiamoci che la critica letteraria per esempio a un certo punto ha insistito molto sul concetto che l'intenzione dell'autore che non sempre tra l'altro è rintracciabile come fonte ufficiale eccetera perché una cosa è un comunicato che fa l'autore di un romanzo per esempio su quali sono di un'opera su quali sono le quali erano le sue intenzioni e una cosa sono le sue vere intenzioni che non ha neanche senso stare a stabilire ok però comunque cioè l'intenzione dell'autore non è l'unica interpretazione possibile che ogni utente può dare di un'opera in seguito al suo rapporto con l'opera non ci interessa particolarmente a me proprio quasi mai l'intenzione dell'autore interessante come altro tipo di chiacchiera dici guarda vediamo un po' ma tu che volevi fare perché hai pensato di fare questa roba come ti è venuto in mente ed è una cosa poi tu hai fatto questo io adesso guardo questo e questo a me dà questo tipo di sensazioni e quello è importante allo stesso modo e anzi è fondamentale fondamentale comunque grande ualo mi fai compagnia durante il turno di notte dice ukyo 1996 dove sei ukyo ah stasera dici la live delle 22 ok perfetto presente mentre gioco a diablo 4 anche che j walter 5586 molto bene io ci sono stasera dice lord of the kind questo è fantastico shadow of love dice non vedo il sondaggio ma ci sono per forza anche questo è fantastico io l'ho preso rubiamo dice passerotto i giochi quando escono invece di comprarli ualo che compra un souls dopo sei mesi impossibile dice passerotto di from software beh ma è difficile perché è difficile perché me lo manderebbero il souls di from software da recensire provare qualcosa a me finora è stato sempre così c'è da dire che se se anche non avessi mai fatto questo tipo di lavori nella vita e ammettiamo fossi diventato appassionato di questo genere così come lo sono cosa comunque difficile poi da stabilire a quel punto perché perché sarà successo magari proprio perché già lavoravo in quest'ambiente chi lo sa vabbè comunque facciamo questa ipotesi complessa me lo comprerei lo stesso me lo comprerei al day one un gioco che mi piace tanto ma senza lamentare cioè sapendo che se lo voglio perfetto aspetto qualche mese però se farei i miei pro e contro i miei calcoli dico no vabbè rinuncio a satana rinuncio al fatto di di averlo perfetto perché lo voglio subito però poi non mi lamento del fatto che non è perfetto che poi su The Last of Us dice Paris per PC altra disinformazione di alto livello attenzione giocato finito prima delle patch dice Paris mai crashato avendolo settato bene per il mio sistema senza sforare la VRAM giusto un glitch grafico dice Paris beh se tu non avessi fatto determinati settaggi Paris sarebbe crashato quindi è vero o non lo sai magari tra l'altro dici no io l'ho settato così a me non è mai successo però il fatto che tu lo sottolinei che l'hai settato in un certo modo significa che ritieni che sia quello il motivo per cui non è mai crashato e quindi magari cioè può non essere disinformazione no il gioco crasha se tu non metti dei settaggi specifici ci potrebbe stare che ne pensi lo faccio per l'amore di logica questo questo discorso vedi si l'ho mandato fuori VRAM per testare che cosa intendi con mandare fuori VRAM è una roba che se tu lanci il gioco scegliendo le impostazioni di default può capitare perché se è così ebbè c'è c'è qualcosa di da aggiungere al semplice compro il gioco e non crasha no significa che di tutte le impostazioni che ti vengono offerte come possibili alcune funzionano e altre no e quindi è vero che può crashare poi Silver Brain fa la domanda complottista che che pure ci può stare però in realtà non è necessario nel senso Silver Brain chiede quale sarebbe la longa mano che dirigerebbe questa disinformazione nei confronti dei giochi PC potrebbe essere l'ignoranza semplicemente no comunque sarebbe una cosa fastidiosa però io dico se esce un gioco e con le impostazioni di default crasha e tu devi sapere di dover mettere determinate impostazioni per non farlo crashare beh secondo me non è tanto disinformazione cioè secondo me è vero che il gioco crasha a questo punto Paris aggiunge nel senso che se la mia VGA ha 8 GB lo mando a 12 GB crasha per forza ma di base parte il problema è che molti lo settavano a ultra e non si accorgevano del problema della VRAM ok però se tu hai un pulsante che ti fa fare questa cosa e poi il gioco crasha secondo me è vero che il gioco crasha non so se prendi The Last of Us parte 1 su PS5 e fallo crashare il risultato sarà che non crasha e quindi il gioco non crasha se invece su PC basta selezionare una delle macro impostazioni per arrivare a farlo crashare così facilmente beh allora è vero che il gioco crasha se sei utente PC queste sono le basi dice Paris no no le accetto come basi queste se io posso selezionare ultra metti tutto a ultra e poi il gioco crasha prendi una donna falla crashare dice Dante Horror Show così come la versione di The Last of Us per PS5 prendila e falla crashare non è non è facile invece se su PC è così facile allora ci sta la chiacchina non mi sembra disinformazione di alto livello non so se è chiaro cioè esce il gioco cioè il pulsante premo i pulsanti e crasha fondamentalmente è quello che sta succedendo no che stiamo descrivendo cioè lo sto chiedendo lo sto facendo descrivere a te però non lo sto dicendo io perché io non lo so non l'ho fatto però se è quello che stiamo descrivendo e beh allora è vero che crasha non c'entra sto discorso così perché quando vai nei setting di lato c'è il livello della VRAM non lo so se io posso premere dei pulsanti e selezionare delle cose che poi mi fanno crashare il gioco boh non lo so troppo semplice guarda dice la RIS80 devi meritarti la possibilità di giocare può darsi sarà quello mi hanno crashato giochi first party anche su PS5 dice Lord of the Kind sì ma può capitare cioè il fatto che però non è magari una roba famosa no che tu dici questo gioco crasha in generale tipo Lords of the Fallen ad aprile quindi dice Passerotto cioè comprare Lords of the Fallen ad aprile oppure comprarlo e senza lamentarsene Passerotto dunque non è una cosa falsa dice Paris però i test vanno fatti bene come ti ha detto Passerotto 75 anche su hard disk di PS4 da 5200 giri 5400 credo funziona sicuramente se vedi i primi video erano di altro livello adesso è diventato molto se mi passi il termine pubblicitario ma pubblicitario a favore di PlayStation a favore del mondo console che poi esiste contro il mondo PC cioè qual è la sensazione che Digital Foundry è contro il mondo PC scatole cinesi però capisco il tuo ragionamento non ho nessun livore ma un minimo di grazia verso chi consuma non sarebbe male ormai se compri un gioco e neanche al day one fai il beta tester no lo so scatole cinesi ma tu per evitare questo non lo comprare bello facile facile non lo comprare proprio Digital Foundry ha espresso la propria omignione multiplayer l'ha travisata mettendoci del proprio dice Lord Dave The Kind dunque ultimo titolo al day one Arkham Knights su PC ho detto tutto dice Tulle 1981 mi ricordo che ci si lamentava tanto di Arkham Knights Arkham Knight Arkham Knights questo giusto Arkham Knights il multiplayer ok problemi con le texture che in alcuni casi diventano veramente inguardabili e anche io non ho mai sforato la VRAM dice scatole cinesi che quindi introduce un altro tipo di un altro set di problemi però Wallone una delle cose fighe di Demons è proprio la velocità di respawn non avesse avuto questa feature non so manco se avrebbe avuto senso come remaster al netto del piacere personale no per me avrebbe avuto senso comunque io lo aspettavo già su PS4 perché semplicemente per il fatto che era solo su PS3 e e non anche una rimasterizzazione mi sarebbe piaciuto semplice semplice di Demon's Souls PS3 in versione PS4 perché su PS3 sei chiuso in un vicolo cieco non hai futuro se sei un gioco PS3 devi uscire purtroppo di nuovo su PS4 almeno per poter avere una continuità nel tempo poi su PS3 sei morto su PS3 quindi io lo aspettavo e come no Demon's Souls si poteva fare a voglia se si poteva fare anche su PS4 essendo un gioco per PS3 che io ho giocato e finito più volte su PS3 quindi tra un po' tra l'altro non mi ricordo neanche grande sofferenza per la veloce di caricamenti c'erano i caricamenti ovviamente però non mi ricordo questa enorme sofferenza all'epoca era così e basta dunque ultimo Hitman provato e piaciuto dice Fantox92 è stato Absolution per me il migliore tra quelli che ho potuto provare no niente Hitman non è proprio roba mia ma lo stealth non mi piace granché chi è che ha giocato e apprezzato Thief come gioco non quello degli anni 90 quello recente diciamo quello degli anni 10 o anche quello degli anni 90 se volete cioè quella roba là per me è proprio complicatissima da gestire a Shepard91 è piaciuto giustamente dice Arius 80 citi Final Fantasy 11 ma anche il 12 rappresenta una rottura con il passato e nel 2006 ha avuto parecchie critiche perché non è un GRPG a turni tradizionale eppure oggi è il Final Fantasy invecchiato meglio era avanti e la gente non capiva io compreso nel 2006 dice Arius 80 esatto cioè quello che volevo dire citando Final Fantasy 11 che è proprio clamorosa e che chi segue Final Fantasy da tempo già lo sa che Final Fantasy può cambiare anche drasticamente da un episodio all'altro quindi sta roba di il 16 non è un Final Fantasy veramente faccio proprio super fatica a comprenderla allora queste sono le reazioni voglio vedere un attimo ah perché pure Tony Doctor Doom aveva clippato fa vedere per per e fai anche sentire da flipper per dire c'è sempre qualcosa che ti rimanda a qualcosa di precedente è difficile l'originalità questa roba qua per esempio è un fatto che tu non ti aspetti ma perché ma comunque è una persona davanti a un microfono che emette dei suoni ok però era per far capire che c'è una roba da flipper per dire no c'è sempre qualcosa che ti rimanda a qualcosa di precedente è difficile l'originalità questa roba qua per esempio è un fatto che tu non ti aspetti ma perché ma comunque è una persona davanti a un microfono già era meno originale esatto non non completamente è già visto però comunque già meno originale già meno originale molto bello comunque allora è che allora adesso il discorso delle intenzioni dell'autore adesso questa roba è venuta così ed è stata così ma nell'intenzione dell'autore non c'era l'eccessivo disturbo sonoro voleva solo essere il fatto ma che cosa ha fatto cosa non me lo aspetto per fortuna avevo l'audio basso diceva Fantox 92 cos'era dice il canna 1980 stavo ascoltando mentre lavoravo e sono quasi morto i cartonati sono originali dice Shepard91 ho avuto 7 infarti contemporaneamente Tony Doctor Doom l'ho appena messo come sound delle notifiche dice Shadow Love tipo ogni notifica che ti arriva a quel non è male come idea comunque anche questa abbastanza originale sei un pazzo totale dice Paris Raptusis se la ride nettamente hai dimenticato di prendere le pilloline dice Zul tranquillo metti la tua camicia con le maniche lunghe dietro la schiena e vai nella tua stanza piena di cuscini una domanda da parte di Fantox 92 perché nei videogiochi il doppiaggio italiano è sempre basso mentre in lingua originale mi sembra che sia tutto registrato in modo più lineare e omogeneo in italiano trovo spesso voci molto basse e gli effetti molto alti non ci ho fatto caso Fantox 92 quindi non ti saprei dire non saprei magari qualcuno ci può dire qualcosa tipo The Calcifer potrebbe avere un'idea basso il doppiaggio dice Zul 6675 ma non l'urlo di Ualo ne sarà varsa la pena come dice Dante Horror Show di essere licenziato per questo motivo il fatto di prima potrebbe essere definito l'anticartonato può essere sì il cartonato sorprende sempre però dice Raptusis attenzione questo è importante il cartonato sorprende sempre questa live sta diventando particolarmente disturbante dice il canna 1980 Tesla News sul canale YouTube di Vito è un fatto che non ti aspetti esatto Shepard 91 esatto allora vedi Raptusis si dice ma Pong non voleva simulare il ping pong sì insomma anche il ping pong il tennis chi è nato prima l'uovo o la gallina tra l'altro veramente il videogioco ha sempre puntato al realismo dice Paris erano le tecnologie che non esistevano ancora Pac-Man è il ciego vast invece si chiede arius 80 Pac-Man è tipo nascondino dice potopuk giochi di quando ero bimbo eh tipo nascondino Pac-Man ce l'hai ce l'hai che gioco è ce l'hai potopuk gioco che si chiama ce l'hai che cos'è che gioco è come funziona qual è il regolamento di ce l'hai The Calcifer in effetti non avendo noi mai visto gli alieni chi ci dice che non hanno esattamente l'aspetto dei nemici in Space Invaders o magari sono anche grandi uguali e poi bisogna capire anche grandi uguali quanto però cioè tipo piccoli come i proprio i pixel degli schermi di Space Invaders che erano tutti uguali tra l'altro io mi ricordo i Pac-Man quelli diciamo un po' più recenti dice Tony Doctor Doom anche se sono tipo di 15-20 anni fa ma vabbè in cui ha anche le braccia e le gambe e c'è anche Miss Pac-Man ma c'erano già Pac-Man anche più vecchi con le braccia e le gambe tipo Pac-Land in Pac-Land Pac-Man aveva le braccia e le gambe no e Pac-Land è vecchio sì ecco qua mamma mia braccia gambe cappellino occhi tutto pure i fantasmini hanno le braccia e Pac-Land è un gioco del 1984 molto vecchio quindi quattro anni dopo Pac-Man Cloni di Mario ovunque dice Manforte ok Pac-Man non ha una spiegazione razionale dice Zull e Tetris che significato ha bello il significato di Tetris comunque Raptusis dice che siccome viene da una pizza il personaggio striscia così in orizzontale come la pizza però poi riesce a girarsi dall'altro lato e rimane uguale ecco qua Pac-Man quala cosa hai giocato stanotte a Final Fantasy 16 da un stilo adesso sono a tipo 46 ore di gioco una roba del genere 70% della trama principale sto continuando a fare anche le secondarie schippando i dialoghi io traduco Walo dice The Calcifer non ho idea di quello che succede in quelle strane buie sale di registrazione vabbè esagero ma la risposta a quella domanda può darla chi lavora all'aspetto tecnico dell'audio eh no immaginavo che magari ti arrivasse di riflesso qualcosa Silver Brain molto polemico eh Silver Brain molto polemico sulla questione Digital Foundry la chiacchiera è giusta se non c'è modo di ovviare ai crash dice Jerry Italia no ma è giusto anche se c'è modo e parlare del modo in cui è possibile ovviare no in genere i giochi PC dice Doom si autosettano in base alle impostazioni migliori per il tuo PC poi tu le puoi cambiare e fare danni ma in genere c'è scritto che aumentando alcuni valori il gioco potrebbe girare male ok e quindi i crash di The Last of Us parte 1 arrivano tutti da persone che hanno scelto di modificare magari anche addirittura in modo estremo i settaggi consigliati Cyberpunk 2077 a lancio su serie X non ci si poteva lamentare dice Liriam 007 Dan Stilo ti confesso una cosa mi sento di dirti questa cosa oggi non ho mai giocato ad un gioco From Software e a Vampire Survivor verrò bannato no Dan Stilo verrai incitato a farlo farlo da cosa vogliamo cominciare Dan Stilo che piattaforme hai a disposizione lascia stare Vampire Survivors perché quella è una roba che proprio in due minuti lo provi ti ci metti e ti piace ma parliamo prima dei giochi From Software hai tutte le piattaforme sei abbonato a Playstation Plus se sei abbonato a Playstation Plus allora oggi giocherai a Demon's Souls abbonato a tutto Dan Stilo ha tutte le piattaforme ed è abbonato a tutto soprattutto è abbonato nella vita fondamentalmente ok allora oggi dobbiamo giocare a Demon's Souls quindi metti a scaricare Demon's Souls dal tuo abbonamento Playstation Plus sulla tua PS5 e poi ti passo un articolo molto importante come si chiamava allora non arrendetevi era ecco qua non arrendetevi alla difficoltà di Demon's Souls devi leggerti questo articolo Dan Stilo allora dici io sono malato mentale devo giocarci devo giocare dal primo mai uscito sono vittima di me stesso gioca Demon's Souls Demon's Souls è il primo mai perciò ti ho detto Demon's Souls puoi fare il remake grafico di Demon's Souls perché cambia solo la grafica ma il gioco fondamentalmente è quello lì se leggi questo articolo se vuoi puoi cominciare da quest'altro articolo che pure ti linko ma c'è scritto all'inizio dell'articolo che ho linkato prima c'è un rimando a quest'altro articolo in cui spiegavo che all'inizio non mi non mi avevano preso sti giochi per qualche anno e poi dopo invece avevano cominciato a piacermi tanto e quindi davo poi dei consigli su tu devi fare una cosa Dan Stilo devi installare Demon's Souls iniziare a giocarci per i fatti per i fatti tuoi e poi quando dici no però non ho capito questa roba non ho capito bene questa cosa corri immediatamente a leggere questo articolo questo è il tuo compito Silver Brain dice dice la verità questo è uno dei pezzi di cui sei più orgoglioso nella vita abbastanza Silver Brain ma quello di cui sono più orgoglioso ancora è un pezzo che a proposito della questione dell'originalità è un po' derivativo di questo ed è questo qua Bloodborne è troppo difficile leggete qui questo articolo è un articolo scritto al day one di Bloodborne dopo che è uscito dopo la recensione che era uscito qualche giorno prima del day one in cui davo tutta una serie di consigli era tipo quell'articolo fatto su Demon's Souls però qua su Bloodborne era importante a livello di pubblico perché Bloodborne aveva un pubblico a differenza di Demon's Souls su PS3 perché era molto pompato da Sony tra l'altro c'è un altro articolo molto interessante che avevo scritto prima dell'uscita di Bloodborne allora com'è Sony Demon's Souls Bloodborne IGN Italia le vediamo un po' sì che era questo da Demon's Souls a Bloodborne qualcosa è cambiato l'impegno di Sony nel produrre e promuovere un gioco from software è molto diverso da quello di qualche anno fa perché Demon's Souls alla fine Sony che l'aveva voluto poi l'ha un po' abbandonato non l'ha neanche pubblicato fuori dal Giappone Sony l'ha pubblicato Atlus in America e Bandai in Europa Demon's Souls nonostante fosse di Sony e vedi la copertina americana di Demon's Souls per PS3 e è qua in quest'articolo del 13 marzo gioco in uscita il 25 marzo dicevo guardate Sony come si sta impegnando adesso pubblicità fa fare un sacco di eventi di anteprima alla stampa ci punta proprio su Bloodborne mentre all'epoca Demon's Souls è una bella storia questa qua ve la consiglio no vi linko anche quest'articolo qua Bloodborne è troppo difficile facciamo chiarezza esatto che è J.S.P.D.P.P.A. esattamente va bene Dan Stilo c'hai un bel po' di roba da leggere ma prima di iniziare a leggere queste cose devi iniziare a giocare a Demon's Souls e poi vai a leggere questi articoli Manforte dice PS5 Pro vale la pena? vediamo quando uscirà se uscirà anche se i rumor si stanno facendo insistenti e io ho sempre detto che secondo me nettamente sarebbero arrivate le console mid-gen c'era mi ricordo un sacco di chiacchiere abbiamo avuto negli anni scorsi sul fatto che molti dicevano ma no ma quest'anno non arrivano le console quest'anno in questa occasione in questa generazione non arrivano le console mid-gen perché hanno fatto delle console in modo diverso eccetera c'è sempre spazio ragazzi per migliorare le cose ho sempre detto dall'inizio che certamente secondo me sarebbero arrivate e adesso adesso è molto rumoreggiata soprattutto PS5 Pro ci sono dichiarazioni di esponenti dell'industria che hanno lasciato intendere che si aspettano che arrivino console mid-gen in generale anche da parte di Microsoft nonostante ci siano state anche dichiarazioni di pure Phil Spencer che diceva no abbiamo fatto le console in questo modo ma certo ma sicuramente ma comunque quando un gioco ti fa scelta quando FNAF 16 gira in questo modo può girare ancora meglio cioè non regge i 60 fps è certo che ci vuole PS5 Pro è normale cioè non è che ci vuole è normale che puoi far girare ancora meglio le cose e quindi certo che va bene avere PS5 Pro ma va sempre bene sempre è impossibile che non abbia senso una console ci vuole una CPU buona dice Paris quello è più difficile naturalmente ma quello è se vuoi cambiare proprio di molto le carte in tavola ma per far girare meglio i giochi che tu già perché il concetto di PS5 Pro è questo che i giochi sono comunque per PS5 tipo FNAF 16 solo che su PS5 Pro girano meglio per quello basta PS5 Pro cioè una console fatta allo stesso modo in cui era fatta PS4 Pro rispetto a PS4 quindi non una rivoluzione nell'architettura non un cambio come quello di PS5 rispetto a PS4 ma una console uguale alla precedente solo con la GPU più potente la CPU cloccata meglio e basta più che PS5 Pro speriamo in una slim abbastanza slim dice Giorpi sto aspettando quella per prendere anche PS5 e poi cosa prenderesti Giorpi se esce una PS5 Pro che è diciamo simile come ingombri come cose a PS5 magari anche un pizzico meglio e una PS5 veramente slim quale prenderesti tra le due io non potrei mai rinunciare a PS5 Pro fa niente la bruttezza estetica della console però vorrei sempre quella più potente c'è da dire c'è da dire che se noi andiamo a confrontare com'era Xbox One al lancio e come è uscita invece Xbox One X una console elegantissima piccola sottile veramente un capolavoro di ingegneria Xbox One X probabilmente possiamo anche sperare in una PS5 Pro poi c'è da dire che Xbox da un certo punto in avanti ha dimostrato di saperle fare bene le console da quel punto di vista PlayStation un po' meno però a livello di fattibilità è fattibile è concreto è possibile sperare in una PS5 che sia sia Pro sia più figa e magari anche più piccola della PS5 standard One X la console più bella di sempre probabilmente dice Rial Shacallo sì non è che era proprio particolarmente bella però era la più cioè nel rapporto prestazioni estetica un capolavoro assolutamente estetica nel senso di dimensioni ecco forse questo nel rapporto prestazioni dimensioni un capolavoro assoluto Waxi Blizzard Carabia a tutti crash e non crash su L.I. sto sperimentando un po' di strozzature ad esempio seppur come configurazione viene consigliata la via della risoluzione a 720 alcuni giochi ma la sopportano ad esempio Tunic Crash però ecco il tasto rapido per il cambio della risoluzione aiuta ricordatevi Anthem con il quale a lancio si era beta tester e successivamente venne usato per il benchmark talmente era pesante per come stressava il comparto hardware dice sempre Waxi Blizzard intanto appena appena terminato un profilo OC della GPU a 2100 MHz con un massimo 1080 MV e 446 Watt di consumo dice Paris io direi molto interessante Paris mi è piaciuto il lato artistico e tutte le zone d'ombra su TV OLED è una bomba TIF ah bella questa specifica Shepard io ho giocato solo TIF Deadly Shadows e quello Square Enix dice Shadow Love quest'ultimo è molto banalotto anche comparato a robe come Dishonored lo stealth non fa per te o non ti piace dice Dan Stilo diciamo che non mi attira non mi attira ho paura mi impigrisco di fronte alla possibilità dei giochi stealth ti rendi conto che se ti studiassi un dialogo potresti letteralmente parlare con te stesso del VOD dice Shadow Love è una cosa che naturalmente è anche proprio consigliabile hai sistemato la play alle tue spalle o sbaglio no Dan Stilo non l'ho toccata probabilmente però ho girato la telecamera lo voglio tra le cose da riscattare dice Passerotto ok l'anticartonato potremmo mettere tra le cose da riscattare allora quindi abbiamo convinto o no alla fine Dan Stilo a giocare a a Demon Souls mi mancano i tuoi articoli Walo dice Dan Stilo sei un messi in panchina in questo momento per me allora ti ringrazio Dan Stilo devo dire che anche ogni tanto anch'io ci penso alla questione scrivere però ragazzi non esiste praticamente più non è che veramente quasi non esiste più sta roba di scrivere lo fai per per sfizio io l'ho fatto per lavoro per vent'anni capito era bello adesso non so sinceramente ma probabilmente sì cioè il fatto che fosse per lavoro comunque ti porta a perfezionare lo stile l'attenzione alle cose vedete quando dico questa cosa non si scrive così perché dovrebbe essere questa è una ripetizione non si mette sta roba poi il mio stile non era molto inquadrato e inquadrabile anzi assolutamente però su certe robe massima attenzione su robe di chiarezza comunicativa massima attenzione sempre proponi qualche tua rece a qualche sito dice Paris no il punto Paris è che tipo allora quando tu lavoravi con uno stipendio fisso che perdi tipo cinque giorni a giocare continuamente al gioco e poi a scriverne la recensione era una roba che funzionava perché tanto quello era il lavoro e quello dovevo fare ma adesso se devo fare questa cosa per non lo so la butto lì 50 euro e sono ottimista secondo me e sono ottimista non lo so se funziona capito cioè è un po' questa c'è un po' questa cosa qua e credo dico veramente sono ottimista sulla questione 50 euro giochi sempre da divano anche di notte chiede Dan Stilo sì sì soprattutto da divano 99% dei casi da divano negli ultimi due anni e mezzo da quando sto in questa casa qua dal 2017 dalla fine del 2017 alla fine del 2020 invece ho giocato su una sedia avevo una postazione tipo così che però mi giravo da un lato e c'era il televisore addirittura poi con il televisore con anche il surround posizionato per quando stavo guardando da quel lato dal 2013 al 2017 su divano e prima pure su divano semplicemente in una postazione peggiore 2013-2017 una delle mie postazioni preferite in assoluto avevo uno studio bellissimo una stanza troppo figa con divano di fronte a televisore con le console eccetera alle spalle del divano la scrivania con il pc in cui mi mettevo a scrivere lavorare e da cui però potevo guardare ancora il televisore che era davanti al divano che c'era televisore divano scrivania e quindi seduto alla scrivania ero semplicemente un po' più lontano dal televisore però ce l'avevo comunque davanti ed era veramente una postazione congegnata molto molto bene anche qua invece ho dovuto separare un po' le due cose postazione per streaming in una stanza e poi divano col televisore figo in un'altra stanza preferirei invece quella configurazione lei ancora solo che in questa casa non sono riuscito a a riottenerla potrei secondo me devo fare quella roba che sto dicendo da un po' di mettere i due monitor più piccoli davanti a me e il televisore sulla parete secondo me in questo modo si può creare una roba sfiziosa anche per giocare volendo per me sei proprio un professore dice dan stilo infatti dovresti fare la mattina all'insegnante 18 ore a settimana 9 mesi su 12 il pomeriggio twitch fantastica questa cosa hai mai giocato in ginocchio dice che jsp di vip può darsi ma non mi viene in mente quindi se è successo è successo molto raramente che jsp di vip in ginocchio è proprio bello tra l'altro ho giocato sicuramente in piedi seduto su ogni tipo di sedia seduto al tavolo della cucina con un televisore che era in cucina e con il mio commodore 64 montato lì correggo i compiti su twitch dice il moruz 1 2 3 bello bellissimo sta roba bellissimo se giochi in questa stanza il vicino si lamenta dice dan stilo no non lo so se cambia qualcosa da questa stanza alla sala sinceramente non lo so non lo so fai gli esami e prendi l'abilitazione all'insegnamento dice Paris bella sta cosa dell'insegnamento a Milano lavori subito addirittura mi piace sta roba della spinta verso l'insegnamento non so neanche cosa dovrei fare però a me piace l'idea di spiegare robe come funzionano cose insegnare cercare di far capire fatti mi piace proprio di base assolutamente vogliono tutti farti lavorare ualo ma questi che vogliono dice Passerotto eh no infatti assolutamente e no è perché comunque è vero che le cose che facevo io non hanno più quella stessa applicazione immediata a qualcosa che diventa un lavoro vero e proprio quindi ci sta anche di pensarci a queste cose anche Ata lavori subito dice Dan Stilo assistente tecnico o bidello nella scuola devo andare a finire insomma ho capito va bene va bene ragazzi allora ne parliamo stasera no parliamo anche d'altro stasera però mi raccomando non mancate anzi siate tutti numerosi alle 22 tra non moltissimo tra 4 ore e qualcosina alle 22 ok stasera non mancate grande chiacchiera live serale buonasera mister ruolo alle 22 stasera ok ruolo ne for preside dice vi for vendemmia a proposito di di carriera nella scuola molto bene grazie a tutti ci vediamo stasera alle 22 grazie caraibi e caraibi anche dal vostro KJ presidio qui dalla redazione di Caiba Station detta Caiba Station ci vediamo come diceva Wallone giustamente alle 22 stasera non mancate anzi siate numerosi stasera alle 22 grande chiacchiera e adesso andiamo a fare un ride a vai viking place via ride caraibi ragazzi ci vediamo stasera buon proseguimento di vita nel frattempo caraibi